ehi voci in ascolto mi siete mancate buonasera sotto questo cielo stellato vedendo i passi che il mio amico gioia l'ha dovuto intraprendere tanti anni dopo quello scontro non riesco a non pensare a quanto possa essere ironica la vita quando eravamo soldati joel mi diceva sempre di non guardare in alto di non perdere tempo dietro le stelle che l'unico vero mantra di un guerriero dovrebbe essere quello di guardare dritto davanti a sé l'unico luogo nel quale possono nascondersi i nemici le sciabole un uomo retto non dovrebbe mai perdere il suo tempo a leggere gli astri a domandarsi chi possa abitare quell'enorme volta celeste perché tutto ciò che conta vivendo noi con i piedi per terra ciò che si trova davanti a noi oggi tanti anni dopo forse per colpa mia il mio amico joel deve diventare ciò che ha sempre odiato deve guardare queste stelle leggerle con la sua grande intelligenza trovare loro un senso e convertirle convertirle in archi magici spade gigantesche ora con questa grande runa in mano che tanto potere mi conferisce spero che joel possa trovarne una simile che possa aiutarlo nelle sue magie nella lettura delle stelle e nella loro conversione in potere in silenzio facendomi sentire da voi ma non da lui dico che forse joel si sbagliava che guardare il cielo possa davvero servire a qualcosa perché ei è sereno non brucia 3, 2, 1, SIGLA! c'è 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 un Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come sai, ho finito Elden Ring e c'è un paio di cose da dire, ci sono un paio di cose da dire, ma allo stesso tempo ti farò un breve reminder pre-capitolo 2. Perché tu adesso, indipendentemente da qualunque cosa tu abbia già vissuto di completamente nuovo e mai visto prima, hai per forza di cose una sensazione chiara. Adesso, sepolcri di alle spalle, davvero sei nel nuovo Elden Ring, anche nel più piccolo dettaglio. E quindi, hai superato l'episodio brividi. Vorrò sentirtene parlare di quello che hai scoperto e giocato la scorsa volta. Quindi, l'introduzione è tua. Eccoci qua. Ci sono tante cose che devo dire, al di là dei semplici grazie, ma sempre necessari, all'inizio di ogni puntata, con tante sub a pioggia che arrivano da una parte e dall'altra. Grazie mille. Grazie, ragazzi. Beh, che dire, il brivido arriva innanzitutto perché sono davanti a una nuova mappa, finalmente Turbo Blind, nella quale tutto bene o male sarà nuovo e speculo mio fatti capanna. Ma, al di là di questo, il finale di Sepolcride è stato effettivamente pregno di informazioni e di momenti inaspettati. Credo che il fatto che le due dita fossero effettivamente due dita rientri tra i twist più, come dire, inaspettati dell'industria. Perché pensi tutto tranne che possano essere due dita. Se non lo avete già fatto, invito i migliori montatori a unire le reaction di tutti quanti quelli che hanno scoperto che sono due dita nel mondo dei gameplay internazionali. Ma immagino che esistano già questi due video. Questo genere di collection ci sono sicuramente. Io non ho ancora visto nulla, ho finito oggi e ora mi aprirò. Eh, certo. Secondo me sì, sinceramente. Cioè, gente reagisce al fatto che le due dita sono effettivamente due dita. È un bel content che guarderei. Hanno montato le nostre reazioni in Dark Souls 3 a Irithy, quindi. Appunto, appunto. E quindi mi piace molto l'idea che il gioco ti voglia sorprendere anche de-metaforizzando. Togliendo il velo della metafora e rendendo alcune cose letterali, come appunto le due dita. Delle due dita abbiamo scoperto una cosa che mi ha sorpreso forse più di quanto abbia sorpreso altri. Ovvero il fatto che queste due dita fossero tante un tempo e diffuse sulla vetta di torri, come quella che abbiamo esplorato esattamente, alla fine di Sepoltide. Esatto, il grande colpo, diciamo, di scena, nel colpo di scena, è che sono evidentemente multiple, ma non solo multiple. Una delle cose che in realtà mi sono sempre chiesto durante la run, fino all'ultimo istante, perché comunque è un qualcosa di estremamente interpretabile, che mi ha lasciato ancora oggi perplesso, e te lo posso dire perché non è uno spoiler, in quanto ne riparleremo del perché certe cose rimangono in sospeso. Sono anche le altre forme due dita. Cioè, sai, io inizialmente quando vidi le due dita, dissimilatamente... Oh, 2 più 3, 5. Invece sono tante due dita. Cioè, no, esatto, esatto, sono tante due, questo già cambia le cose. Sono d'accordo, sì sì, infatti, questo significa che ci sono più mani, in teoria, e che queste mani, peraltro, non sono emissari alla Berserk, ma sono proprio mani che si estendono dall'albero, perché sembrerebbero appunto arbore, erano ligne, quelle che abbiamo trovato in cima. Non sembravano altrettanto ligne, ma lo saranno sicuramente quelle all'interno della tavola rotonda. Fatto sta che l'ordine aureo ancora ora prende le parole, sto facendo le virgolette anche se tu non mi vedi, delle due dita come legge, benché appunto serva una legge dita. Le dita non fanno nient'altro che vibrare, ed è la legge dita oggi a raccontarci cosa le due dita stiano comunicando attraverso appunto la loro vibrazione. Sappiamo anche che esistono tre dita folli, e quindi io ti ricordi, aggiunsi una cosa, che anche oggi voglio ricordare ai ragazzi che ci seguono, a mio avviso quindi folli non sono le tre dita che rimangono, ma con lei o colui che le interpreta, non necessariamente sono le dita a essere veramente impazzite. E vi ricordo anche che la legge dita non mi ha fatto una buonissima impressione, non perché pensassi o pensi che stia cercando di fregarmi, ma semplicemente perché non so quanto questa arte di leggere le dita sia esatta e quanto semplice vaneggiare di fanatici. Bello, bello. Capito, è qualcosa che io devo necessariamente chiedermi. C'è da aggiungere che... Comincio un po' a conoscere Miyazaki. È vero. Comincio un po' a conoscere Miyazaki e vorrei porre alla vostra attenzione, anche a quella del maestro, una differenza chiave, l'ennesima se dovesse servire, tra come ci raccontano Elden Ring e come ci hanno raccontato Dark Souls, ok? Le due dita sono praticamente la guida ultima che deve portarci a compiere il nostro destino di nuovi Elden Lord. Quindi l'immagine suprema che dovrebbe in qualche modo ispirarci in questa nostra crociata. Mi spiego? Noi stessi dobbiamo farci un culo a paiolo battendo Godric per avere udienza dalle due dita. Quindi vederle due dita è un grande onore. La stessa leggi dita ci dice beh, prenditi bene amico mio, anzi nel nostro roleplay prendetevi bene Joe e le Pav perché state per vedere come vibrano bene questo medio e questo anulare. Quindi insomma, no? You're going to have a good time. Però le dita sono brutte. Sì, sono con la pelle rancida, tagliata, un po' scorticata, esatto. Pensate alla differenza con Guinevere e quindi con l'artifizio di Gwyndolin. Sì. Le due dita e Guinevere non sono tanto diversi come concept di reveal al giocatore. È il momento nel quale il giocatore deve trovare il punto massimo che dovrà ispirarlo a fare le cose più assurde e pazze a livello di gameplay e di lore per arrivare a portare a compimento il proprio destino. E in Dark Souls è questa bellissima donna enorme con il seno prosperoso bagnata dalla luce del sole, l'unica che vedi in tutta la tua avventura. E qui invece è volutamente antitetico quel momento. Tu vedi le due dita e almeno per me ragazzi, io parlo per me, vedo ancora la chat in questo momento quindi vorrei che anche la chat mi desse un'opinione. L'impatto che tu hai con le due dita è sorprendente perché sono due cazzo di dita ma è in antitesi con Guinevere. Le guardi e fai due dita ammozzate che vibrano pelose, che schifo. Vero. Vedere che facciano schifo è un grande colpo al cuore perché tu fino a quel momento o almeno io fino a quel momento ho interpretato le mie gesta come leggendarie però poi sapere che queste gesta leggendarie e che questa enorme avanzata dei senza luce risponda a due dita monche orribili mi ha un po' ridimensionato. Dipendiamo da una tizia, la leggi dita, che ci dice che questa è la nostra storia che interpreta la vibrazione di due dita che peraltro sono una roba abbastanza common perché le troviamo in cima alle torri divine. Sì, diciamo che una cosa bellissima è che in realtà è effettivamente molto, molto difficile avere un contatto con le due dita se pensi al mondo reale e alle potenzialità e percorsi di vita di anche fosse un guerriero comune. Ciò nonostante all'interno della trama di Elden Ring in cui noi siamo un guerriero senza luce dal talento e dalla rinascita estremamente, diciamo, particolari e importanti nel suo silenzio, nella sua, diciamo, invisibilità rispetto ai grandi nomi del mondo si ha contatto con loro molto presto nell'avventura e quel presto diventa un improvviso scontro con tutto l'oro e la bellezza che hai visto fino ad ora Sì, è vero Perché sono il contrario, sono orribili che da un certo punto di vista potrebbe anche essere l'appiglio per l'antitesi contraria laddove Gwyn è praticamente portato avanti nella volontà attraverso un mare di menzogne e illusioni qui sono sinceri e nella loro sincerità ti mostrano un idolo per quello che è non te lo indorano, sono due dita a marce e questo ti viene mostrato quindi per certi versi si potrebbe quasi vedere la parte buona della cosa l'ordine aureo è talmente retto che non ha bisogno di romanzare le proprie figure, le proprie icone sono due dita mozzate perché questo sono sempre estate e questo ti becchi tu senza luce perché siamo in tempi bui e duri post-shattering abbiamo poi scoperto che Renala è stata tradita romanticamente Renala è a capo dell'accademia di Reia Locaria non è una semidea è probabilmente una grandissima strega essendo a capo di Reia Locaria devo pensare questo, che sia una donna una semplice tra mille virgolette donna che in realtà è super intelligente ha il dono dell'intelligenza dunque anche questo dovrebbe metterci in prospettiva la cosa non essendo una senza luce è disumanamente intelligente può raggiungere un'intelligenza che noi possiamo parificare unicamente livellando ma lei non potendolo fare è assurdamente geniale io ho cercato di suggerirti questa interpretazione del mondo e del gioco fin dalle nostre prime live ti interrompo l'introduzione per evidenziartelo e sottolineartelo ancora una volta non dico l'ultima ma poco ci manca esatto non fermarti mai mai di interpretare le parametrie e quello che vedi rispetto a un universo che sia diciamo senza nulla togliere al videogioco romanziero nel senso devi pensare a un ecosistema di gioco da tavolo di Dungeons & Dragonsiano nel senso esatto esatto quali sono le caratteristiche del commoner quali sono le caratteristiche del guerriero quali sono le caratteristiche dell'eroe quali sono le tue quali sono quelle di beh ma ti basti pensare che con tutta la runa di Godric io probabilmente io Pav non capirei la metà delle parole scritte sulle pergamene che Joel comprende e comunque entrambi abbiamo dovuto livellare tanto siamo passati sul cadavere di tanti nemici compreso un semidio per arrivare a capire certe cose Renala immagino le comprenda tutte e nonostante non possa livellare quindi una donna incredibile sovrumana anche se in teoria umana e che stava con Radagon Radagon poi in un momento indefinito della timeline la molla ecco qui la componente beautiful di cui tu mi parlavi forse la molla e va da Marica esatto divenendo così il re consorte perché Renala non è mai stata una regina se non appunto il capo massimo direi a Lucaria ma non la definirei una regina nessuno ce l'ha mai definita regina vero? allora fammi pensare attualmente Queen Renala non mi pare di averlo sentito dire regina Renala non è qualcosa che penso tu abbia mai sentito dire a meno che anche Liurnia credo credo che tu abbia però allora non vorrei sbagliarmi io ancora appunto come te reggo la chat esatto dottor Kama stavo per correggerlo su questo penso che lo abbia già scoperto questo dettaglio ah l'ho detto Gideon esatto esatto ok praticamente lei è regina di Caria ah giusto giusto vero esatto non ricordavo se la chiamassero regina volete essere un altro appellativo allora a posto grazie mille ragazzi per avermelo ricordato allora nulla torno square one quindi Renala è una regina non credo che però Radagon sia divenuto il re consorte con lei probabilmente lo è divenuto con Marika e quindi è divenuto re dell'interregno Radagon a un certo punto mi viene da pensare dopo la cacciata dei senza luce dopo che a quel punto Marika ha privato i senza luce della grazia facendoli divenire di fatto senza luce è un po' strano il lo story script in questo momento perché mi mancano troppi dettagli ma quello che mi aspetto quello che mi aspetto è che Radagon vada da Marika perché nel grande disegno che Marika ha fatto per farci poi tornare a un certo punto qui nell'interregno momento che stiamo vivendo nel presente di Elden Ring c'è anche il mettersi con Radagon l'avere i servigi di Radagon che viene assorbito diciamo nel sistema politico e cosmogonico in qualche modo di Marika con questo matrimonio non è comunque appunto una dea assolutamente Axel Dragon questo non lo dice nessuno quindi può essere una regina può essere una grande stregona in realtà Gideon esplicita con una certa saccenza nonostante non sia Demigod cioè lei è proprio specificata da Gideon Ophnir the old knowing non essere neanche semi idea no 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 il che ci può portare a come dire alcune supposizioni noi sappiamo che c'è un occhio di Radagon giusto? sì e siccome c'è anche un occhio di Marika e Marika è sicuramente una semidea direi che anche Marika è definita dea cioè una dea perdonami non semidea Radagon avendo un occhio a sé associato in qualche modo credo che lo diventi esatto magari assurge il ruolo per una sorta di dinastia genarchica di cui fai parte una volta che ti avvicini esatto diciamo che ancora non sappiamo non sappiamo ancora davvero qual è il significato ruolo e potere del termine dio e semidio in Elden Ring quindi potrebbe essere tranquillamente una realtà riconducibile a Dark Souls in cui si ottieni un grande potere magari per qualche artefatto ma di fatto sei semplicemente elevato a ti ricordo come sempre Sì però magari bravo esatto esatto cioè Radagon magari semplice umano a un certo punto mettendosi con Marika riceve un potere che lo parifica in qualche modo a un dio può essere però a quel punto ci dobbiamo chiedere in ogni caso perché Marika ha bisogno di Radagon allora la prima opzione che potrebbe essere la meno interessante ma dipende a quel punto come raccontata è perché Marika è innamorata di Radagon quindi non c'entra nulla non c'è nessun grande schema attorno a questa cosa no infatti Martin non lo farebbe mai beh insomma diciamo che Radagon è un bellissimo ragazzo Marika si trova senza il suo Godfrey Horaloo che magari era un uomo anche bello prestante insomma l'abbiamo visto era un vikingone sei come me in blind insomma ormai è semplicemente canon Godfrey Horaloo fa parte delle speculazioni descrizione mi hai fregato sei come me in blind diciamo che insomma il signor il signor Godfrey faceva del gran sexo con Marika siccome per motivi questi sicuramente legati alla lore Godfrey se ne deve annare deve andare a morire in questa lotta che in questo scontro armato fuori dall'interregno che ammazzerà tutti quanti senza luce Marika si trova da sola e dice Radagon bel pezzo di stregone chiamiamolo qui facciamo un po' di sexo paxo e quindi Renala è un po' arrabbiata perché Marika le frega l'uomo e insomma il fascino di una dea credo che sia inarrivabile anche solo per il potere che ti dà a stare con una dea quindi magari Radagon accetta questo invito relazionale anche per come gli cambierà la vita opzione B opzione B Marika non chiama Radagon a corte diciamo perché sia bello e basta ma perché vuole i suoi servigi quindi magari Radagon è un incredibile stregone un incredibile guerriero ha un potere che noi non conosciamo e che Marika vuole e pensa che il miglior modo per averlo sia eleggerlo a compagno di vita non conoscendo Renala difficilmente posso conoscere Radagon non conoscendo Radagon difficilmente posso verificare se questa ipotesi sia corretta no ma credimi questo genere di speculazioni saranno in Elden Ring tra le cose più belle che vivrai e che vivremo non fermarti mai nonostante le informazioni attualmente siano veramente poche ma in realtà credimi no diciamo ti farà piacere una delle cose che ti dirò durante la mia introduzione è troppo lunga da dirti adesso interrompendoti ma guarda io ci arrivo terzo terzo e ultimo terza e ultima opzione possibile sì la Oseiros Move Marika vuole per qualche motivo un figlio da Radagon per appunto sempre poteri o esatto per creare qualcosa esatto linee di sangue che ora mi sfuggono ma vuole un figlio lo vuole proprio da Radagon e noi sappiamo benissimo che possono nascere dei semi dèi che Marika può avere dei figli perché insomma li vediamo e ne sentiamo grandi racconti quindi magari deve nascere un altro semi dio e Marika stavolta vuole che questo semi dio nasca dall'unione di lei e Radagon anche questa sarebbe molto Martin come mossa e quindi deve copulare con Radagon ma non per motivi sentimentali per un piano per un disegno i cui effetti in realtà verranno vissuti solamente grazie a Elden Ring quale penso sia la più ok quale quale penso sia la più interessante per come potrebbe venire gestita la prima cioè farmi apprezzare una love story è difficile perché è anche un po' fuori dalla comfort zone di Martin è vero l'unica love story che abbiamo vissuto in linea molto generale non era neanche by Martin perché era in Dark Souls 2 sì ed era una merda ok quindi mi è venuta molto bene sarebbe una gran sfida farci vivere il come gli amori possano cambiare gli equilibri politici e divini dell'interregno attraverso questo Elden Ring però alzo le mani sarebbe interessante ma non necessariamente la strada perseguita anche perché sappiamo che Martin ha scritto la lore ma che poi Miyazaki descrizioni dialoghi e storia sono di Miyazaki ma poi mi stavate raccontando che in realtà Godric doveva essere molto meno mostruoso quindi ci sono state delle modifiche potrebbe averne fatte anche a questa storia beh oddio rispondo a M.M. che scrive Martin non è così romantico ragazzi tutta la storia di King's Landing è basata sull'amore esatto Rob Baratheon l'incesto dei Lannister cioè quella roba lì cambia il destino del mondo esatto e in verità anche la storia di Daenerys viene cambiata dall'amore ma certo nel bene nel male quindi no no assolutamente secondo me in pieno stile Martin dire che tutto quanto succede perché tizio vuole a scopassicaio però alzo le mani non lo so non so se andrà effettivamente così se non dovesse essere la 1 la più interessante sarebbe la 3 cioè esplorare altri semi dei noi conosciamo i semi dei che verosimilmente sono venuti fuori dal copulo Godfrey Marika però cosa succede se Marika copula con qualcun altro esatto questa è una cosa interessante Marika dà alla luce Demigod e non solo un Demigod che viene dal retaggio di Liurnia quindi il potere in teoria antitetico rispetto all'ordine aureo e alla all'albero madre è come se lei avesse il potere come hai detto tu di magari attraverso il seme o comunque l'origine biologico gerarchico magico bla 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 di un'entità generare qualcuno che ne faccia assorbire delle componenti o delle parti di potere con diciamo la radice Demigod che cambia le carte in tavola esatto e infatti voglio chiudere questo discorso dandoti una quarta opzione ok che sarebbe molto molto figa da raccontare benché io non abbia prove al riguardo la quarta potrebbe anche avere un fondo quasi di screzio e di umiliazione d'insulto cioè amica rennala ti rubo anche l'uomo ok esatto non è assolutamente brava tu sei caria tu sei caria sei il potere a noi opposto tu guardi le stelle ma noi guardiamo a terra sai cosa ti faccio vedere che ti posso rubare anche l'uomo e che quindi voi fate davvero schifo e le vostre stelle con voi non valgono niente al cospetto dell'ordine aureo e dell'albero madre noi possiamo ottenere tutto e voi non otterrete mai niente vi lasceremo sempre senza niente anche questo molto martin devo dire che tra tutte tra tutti i luoghi che avrei voluto visitare caria è sempre stato tra i primi perché mi è sempre stato mostrato come in antitesi rispetto all'ordine aureo a le indelle anche per certi versi e quindi sono contento di essere qui subito sono contento vedo che qualcuno ti sta eleunando veramente male sì Cassandro a Cassandro bellissimo quindi hai vissuto purtroppo uno scontro canon dicevo sono contento che gli urni arrivi così subito che caria mi venga raccontata altrettanto subito e che stantite si cielo terra sia un metro di paragone e di confronto per il resto della storia che arriva come seconda mappa e non come quarta guarda con l'introduzione che hai fatto la gigantesca introduzione che hai fatto e il cuore che ci stai mettendo ho già in mente un finale comunque ho in realtà non avevo in mente nessun finale per oggi perché l'esplorazione open world di liurnia scherziamo ad essere libera eccetera anche perché hai già scelto di liurnia non ti do altre opzioni perché ovviamente sei bello puntato ma a questo punto ti darò un point sulla mappa sì ok non all'inizio ovviamente alla fine mi rimane da capire dove dove si acaria e tu mi dirai perché io ti risponderò perché non è mica detto che sia qui e c'è esatto sottoterra scusa le stelle ci ha insegnato Elden Ring che non sono solo in cielo e se quella è Reia Lucaria e in linea d'aria è l'unica struttura grande che io vedo a liurnia ma Renala è la regina di Caria magari Caria è sottoterra ho capito cosa vuoi dire ho capito dove from where you're coming from sì 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 tra l'altro devo necessariamente farti un'ultima domanda che mi tengo stretta dall'ultima diretta no anzi la penultima diretta dai stavo bevendo aspetta figurati ragazzi esplosa l'acqua frizzante molto bene no mi ha bagnato tutto ha fatto gli spruzzi pazzi come Radagon d'Amarica allora questa cosa è molto canon credo di sì godric godric in quanto semidio chiaramente può attivare e usare la sua runa ancestrale maggiore sì io in quanto senza luce posso farlo persino joel in quanto senza luce lo farà sì Renala come cazzo fa oh Renala che ci fa con una runa maggiore bravissimo ragazzo questa è un'ottima domanda proprio perché stai prendendo sul serio la narrazione che ti ho detto di prendere sul serio ma per forza Gideon ti ha già dato un indizio ricordandoti questo ti dice lei ha una grande runa in dono e la tiene dentro un uovo me lo ricordo però esatto come la usa che cos'è che ci fa secondo me secondo me potrebbe avere qualcuno dentro il quale è incanalata la runa runala secondo me Renala ha la runa nel senso che l'ha incastonata dentro una creatura che può assorbirla al posto suo magari un uovo un drago i draghi vengono chiamati consanguinei da Godric quindi magari anche i draghi possono assorbire le rune del resto il crogiolo ha anche elementi draconici al suo interno i cavalieri del crogiolo possono evocare code gigantesche quindi magari magari effettivamente Renala ha un drago dentro il quale è stata ficcata la runa maggiore o comunque è una creatura che può conservarla perché non ci fa niente non ci fa niente Renala con una runa sei d'accordo non può assorbirla non può è un'umana è una strega per quanto possa essere brava non è che può fare miracoli la runa non le appartiene magari invece i draghi possono e per questo Godric ci anticipa che condivide con loro lo stesso sangue carino sono curioso o magari è uno spirito ancestrale possono fare le uova non lo so guarda nulla di ciò che è il tuo sciocco per niente nulla ok andiamo sono pronto tocca a me ah eh sì io vuoi che vuoi che mantenga sotto la tua introduzione la team di Alderig non entro ancora questa è una scelta libera da giocatore non è importante non ho cose epiche da dirti con quella soundtrack ok ma per me sei sempre epico oh guarda ti dirò a livello di gameplay da giocatore ti dirò una cosa effettivamente epica che metto agli atti voglio fare un po' il il bulletto da economia dei canali è un uccello scusami scusami ho avuto un flash c'erano due uccelli sul simbolo di Reia Locaria è un uccello quello che ha la runa scusami non ti interrompi oh carino c'erano ti ricordi che avevo visto sui sugli standardi due rapaci certo forse un enorme aquila che è runnala è runnala mannaggia a voi rennala ha come come famiglio boh vabbè vai avanti bello bello no no ma è stato stupendo anzi mandami lo schermo intanto perché penso che io non osservando il tuo minù magari è stato cacciato dal PSN ti faccio vedere tutto lo schermopoli allora introduzione da parte mia il primo passo da affrontare in questa discussione è un velocissimo assunto didascalico telegrammatico telegrafico dei consigli che ti ho dato fino ad ora mi raccomando non prendere mai come parte di contenuto di diretta di content creating ciò che ti ho detto nei confronti del Taccuino non mollare no quindi ricordati trovi un negoziante ok questo vende una roba unica e infinita trovi il Marika di Eternal ok Marika è stata chiamata l'Eterna queste cose o nomi importanti unici Michela ok sono cose veramente che cambieranno nonostante io ci sia qua adesso che ho finito Elden Ring possa essere decisamente più completo saranno cose importanti da vivere perché ti dico dopo averlo concluso ho più che mai certezza della decisione di non avere le chat o meglio adesso io io adesso tornerò a poterla leggere ma in questi ultimi live non l'ho fatto e tu non dovrai farlo mai in questa blind ragazzi comprendetelo mi fido mi fido mi fido è veramente incredibilmente importante per due ragioni la prima è che ci troviamo dinanzi anche a una storia legata al concetto e questo mai un solo se l'ha avuto high fantasy che è una cosa molto difficile da scrivere è una cosa estremamente vasta sono mondi giganteschi Elden Ring non è da meno ma ha in questo chiamiamolo difetto anche se non lo è in questo caso ma potremmo poi discutere delle sue spigolosità o dei suoi grandi successi un high fantasy con le descrizioni come e i dialoghi come mezzo unico di comprensione del tutto è un bel casino perché si tratta di universi estremamente complessi con centomila regole centomila nomi centomila poteri che si vanno a incastrare in un qualcosa che si ha assolutamente concretezza quindi quel taccuino sarà il tuo miglior amico insieme al maestro d'accordo il punto due è che ti voglio rivelare con successo e gioia il fatto che il mese di live una volta a settimana è stato cruciale in quanto queste nostre prime esperienze avevo dovuto far sì che avrei già capito come funziona un po' Elden Ring specialmente con quei teleport che hai scoperto e sgamato tu puoi finire in qualunque posto in qualunque momento ed era mio dovere fare una bolla intorno all'inizio del gioco affinché qualunque direzione tu avresti assolutamente e ce l'abbiamo fatta ora non c'è nulla zero che tu possa affrontare che venga in qualche modo che intimorisca Pav terzo piccolo dettaglio anche se potrebbe accadere di nuovo il momento dracotumulo assolutamente speriamo esatto assolutamente sì e un altro un altro momento potrebbe anche essere il segnalino che ti fa capire qui non dovrebbe esserci Pav narrativamente e diegioticamente si spaventa davvero il fatto è questo ho finito Elden Ring non parleremo certamente di questo adesso altrimenti diventa un talk diventa un talk bello lungo però ti suggerisco solo una cosa sì Pav e Joel come alcune sinergie che ti faranno impazzire retroattivamente un giorno per la opening che abbiamo fatto nella sua incredibile ficcanza Pav è un personaggio insieme a Joel che in Elden Ring è in quello che vivranno è in quello che vivrà perché io ci tengo molto a Pav è un colpo di culo che non ha idea cioè immaginare Pav per come lo interpreti per come lo hai immaginato per come ne immagini in un certo percorso insieme a quello che può essere il nostro Joel secondo è una madonna vedrai delle cose subirai delle cose vivrai dei momenti che anche a livello di roleplay ti lasceranno a sé ora tu oggi giocherai Liurnia in totale assoluta libertà io finalmente posso fare un qualcosa di non vet run ma finalmente completo a 360 gradi mi permetto prima di lanciarti nel gioco visto che comunque siamo a 45 minuti escludendo magari anche appunto il musical inizio mi permetto e questo è veramente qualcosa di liceale cioè ho bisogno giocosamente di dirti una cosa proprio in questo caso c'è una percentuale di content creator che da collega ti vuol far sapere questa cosa ma è proprio l'amico che chiama il cellulare senti oh è successa sta cosa ne ho bisogno abbiamo uno stupendo pubblico che ci segue il quarto fino al punto è questo due cose molto brevi ok è presente quando scherziamo e in qualche modo comunque sappiamo come interpretiamo il termine economia del canale certo a poco più di metà gioco di Elden Ring faccio un wild guess sul boss finale e ci ho preso e e durante la tua blind run sì e cioè quindi a metà gioco ti ho detto secondo me il boss finale è quello ed era quello sì dopo vari tentativi precedenti in cui ho detto ragazzi ho letto una cosa e ho fatto cazzo a questo se vuoi te lo dico anch'io qual è per me il boss finale a vari step voglio che tu lo faccia adesso sarà uno di questi step assolutamente ok io ne ho già uno dopo la live brividi te lo volevo dire poi me ne sono dimenticato ok guarda tranquillo io ti posso dire questo intanto sono libero di poterti dire metà gioco perché la metà gioco di Elden Ring può essere ovunque cazzo no certo e poi la seconda cosa ti ricordi quando hai scoperto attraverso qualche hint visivo e la morbosi che comunque fa parte di certi giocatori il grande vuoto sì che ti incazzasti un po' sì io devo essere molto pronto devo essere estremamente capace di staccarmi dal carattere e diventare abbastanza feroce e dire semplicemente sucate e basta perché è tosta sarà fastidiosamente stancante per un certo tipo di risposta che arriverà ok ma per quanto sia stato enormemente semplificato rispetto ai precedenti capitoli scoprirai poi il perché non è il caso di dirtelo adesso ho platinato blind esclusi i finali che giustamente richiedono di finire più volte quindi hai trovato tutto tutti i trofei ho platinato blind first run cazzo che figata vuol dire che l'hai giocato super bene che spettacolo ma anche che si lascia giocare super bene si lascia giocare super bene poi ovviamente io ho fatto backtracking di quelli da da pazzo ti dico soltanto che a un certo punto della run mi sono voluto sedere a tutte le grazie del gioco da capo perché avevo paura di perdere qualcosa non ho trovato un cazzo però ho dovuto farlo ecco e questo è quanto l'ultima cosa che ti dico è una domanda rispetto all'episodio brividi che chiamai brividi in tutto questo il modo in cui hai vissuto anche la grande runa l'effetto che ha avuto sui parametri di un GDR beh è incredibile il momento più bello della scorsa puntata quindi quindi tu comunque anche Francesco ti ritrovi con il mio titolo oppure pensi che abbia esagerato no 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 assolutamente mi ritrovo con il tuo titolo forse anche di più perché insomma avevo te avevo voi che avete amplificato no che meraviglia questa sensazione ma è figo come il progresso in Elden Ring il progresso del personaggio venga effettivamente vissuto anche dal giocatore in una maniera più concreta che mai quindi molto figo mi è piaciuto tanto però ecco per me il brivido più grande è stato comunque le due dita che sono due dita cioè lì ho perso la testa perché ho detto minchia assurdo mi sono fatto 20 film erano tutti sbagliati due dita sono due dita allora ricordati lo schermo no ti volevo dire una cosa certo il boss finale vai sì sì per me fanno la persona 5 move e il boss finale è the greater will oh ne abbiamo parlato nella prima live già ne abbiamo parlato nella prima live è qualcosa che ho veramente veramente tanto discusso nella mia blind è un punto fisso no esatto the greater will per ora per me è il greater will sì se non è il greater will è il signor il signor la manela è la manera però non so chi sia capito no no ma mi piace mi piace molto quindi tu comunque sei giustamente stupendamente legato al discorso morte sì 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 chissà chissà meraviglioso oh bella intro di restart se polcride ci voleva it's in the past cidonia let's go ho pigiato continuo aspetta però ho pigiato continuo a riprendo quel personaggio che faceva i perli no perché ho ricominciato con liurnia ah è vero è vero mamma mia non resistetti è stato bellissimo sono a liurnopoli ragazzi bene ci siamo perfetto liurnia centro proprio no non è vero questo è periferia allora ragazzi la mappa è nostra finalmente nessuno ci corre appresso io col cazzo che faccio dormire il maestro stanotte manda lo schermino eh non te l'avevo già mandato Mario Mario Sony dice di no Mario Sony è veramente un palle allora condivisione avviata e io let's go allora premesso che c'è questa zona molto interessante ma che in teoria non abbiamo fatto e faremo in un secondo momento molto Breath of the Wild ti ricordi quei labirinti di Breath of the Wild un po' separati dal resto aspetta no questa è la zona iniziale del gioco l'ho già fatta questa è la cappella dove mi sveglio in realtà giusto sì ragazzi perché la vedo a sinistra dal castello sì sì questa è la cappella ecco questa è la zona dove c'è il re dell'innestato anzi questa credo quindi forse manca questo e sì perché c'era c'era una una nebbia che io non ho mai potuto attraversare che probabilmente porta qui e quindi in realtà sarebbe interessante vedere se possiamo tornare alla zona iniziale con un po' di saltini ma come no sai quante volte ci ho pensato voglia di torrent magari potremmo percorrere questa distanza ma non adesso non adesso ah intanto devo togliere la chat ragazzi ciao mi mancherete siete belli l'ultimo commento che ho letto è liurni a scalo e mi ha fatto molto ridere allora a questo punto non so cosa sia questo punticino ma lo tolgo perché dobbiamo rifare tutto da capo e allora abbiamo qua la parte paludosa insomma con l'acqua e la nebbia che vedevamo anche da lontano sì che però è enorme abbiamo il mio segnalino di reia locaria che dovrebbe essere più o meno a quest'altezza a proposito di segnalini liurnia tranquillamente facciamola in coop puoi mettere online i segni sono ok leggi di tanziana è qui ah sì questa è una cosa di di patch di patch che a volte è spoilerina nel senso che se ti avvicini molto con un npc ti segna che ma in realtà non mi sono avvicinato mai nella vita molto alla legge di tanziana credo no in effetti no però è apparso eh sì la legge di tanziana vabbè poi vedremo in realtà ho sbloccato una gran mappa che però si estende tantissimo così verso un po' strana questa sezione la mia chat mi specifica le leggi di tanziana appaiono di default con la patch ma dai ecco ecco infatti no perché non mi sono lontanamente avvicinato a questo punto quindi era abbastanza improbabile beh andiamo con ordine ragazzi c'è da scegliere se questa zona qui paludosa io voglio esplorarla adesso dopo ma vi direi dopo perché si interrompe e la farei quando ne avremo una visione unitaria farei prima la parte di terra parte di terra che a questo punto direi può essere intelligente fare sempre via così tutto quanto quello che vediamo ci piace quindi cominciamo a segnare allora piano piano zoomettino vai allora queste sono rovine qua ci dovrebbe essere qualcosa punto numero uno sono in teoria rovine mezze distrutte con una scala che porta sottoterra io intanto metto la nostra password e ti tolgo temporaneamente lo schermo questa cosa qui potrebbe essere interessante anche questa benché assomigli molto a un pezzo di rovina ma chi lo sa magari potrebbe essere una zona nella quale di notte appaiono gli uccelli della morte poi forestopoli e direi che qui 4 ne abbiamo 5 di waypoint forestopoli che diciamo mi prende qui c'è un ponte che mi prende tutto quanto il questa zona questa fascia orizzontale non sto dimenticando alcun punto di interesse qui cioè certo ovviamente devo guardare anche qui dentro ma tanto diciamo che mi faccio la vasca all'indietro una volta che ho visitato la parte in rovina e e e poi direi sta torre qua dopo sto boschetto andiamo in questo boschetto con la numero 5 e andiamo a vedere io credo che questa sia la torre divina in realtà di potrebbe dalla prospettiva la torre divina l'altra con questo sì cerchiettino sopra sì potrebbe essere decisamente lei c'è anche un vascello qui interessante con un'isoletta però non c'entra niente con gli urnia sì 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 questa potrebbe essere la torre divina e questa potrebbe essere dunque una struttura oddio aspetta però questa assomiglia a quella che mi porta nella città eterna vero? no sì un po' sì potrebbe vedi mi piace che analizzi e ti chiedi aspetta però in verità potrebbe essere anche una struttura simil appunto parte destra del castello oppure l'Eindel potrebbe essere una di quelle strutture circolari con dentro le statue dei cavalieri e bla 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 insomma tanto lo vedremo inutile farsi seghe mentali prima del tempo partiamo allora prima di partire della rovina sì dimmi tu ci sono tre dettagli il primo è che la chat di nuovo mi sta ricordando a causa di alcune interruzioni del maestro ti sei perso il seme d'oro vicino dove trovi Roderica quindi te lo facciamo recuperare ma tornare indietro da Roderica che è la capanna del se mi ricordo avevamo un nome no di Colle Tempesta ok quella dell'artista dove trovavi il dipinto che ancora non abbiamo sgamato no non sappiamo come si chiama ti dico di tornarci anche per un'altra ragione apri la mappa qui su questo tu avrai spesso mie interazioni perché comunque questa esatto perché comunque sarò qui sì perdonami quella esatto per un'altra ragione ti faccio tornare lì ti faccio tornare lì perché tu hai trovato il percorso verso il dilupo sul lago di Liurnia grazie all'aver esatto dicevi grazie al fatto che hai completato Storm Bay Castle è sconfitto Godric l'innestato il ragno tuttavia controlla un po' se hai preso anche quello dell'alberello che sta lì eh sì questa è Roderica che ha lasciato certo guarda un po' se lì sotto a sud guarda basta che esci non stai di mettere segnalini non puoi vederlo nella mappa ok esco esatto vai un po' lì a sinistra guarda un po' se per caso hai preso quello dell'alberello dorato che sta lì questo qui questo alberello qui che luccica sì l'hai preso non vedo brillare cose viola no invece vedo qualcosina forse sì sì ok perfetto quindi ne hai ottenuti ben due beh Godopolis questo potenzia l'estus giusto esattamente è il numero di estus ma no 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 ritornare alla capanna erano due i motivi ah ok pensavo che il secondo fosse quest'altro seme no il secondo motivo è che tu hai trovato il dirupo sul lago attraverso la sconfitta di Castello Gran Tempesta ma piccolo trivia Miyazaki in un'intervista disse Castor è opzionale ah giusto è vero hai ragione quindi puoi raggiungere Riurnia anche attraverso un'altra strada e ti consiglio vivamente di intraprendere di farla allora ultimo dettaglio so che ovviamente la tua curiosità adesso è totalmente cannibale di tale opzione sarà questa esatto ma non dimenticarti mai e sarò sempre qui a dare le punzecchiature che c'è una certa tomba che non hai completato di sepolcride oh no la prima prima o poi hai ragione hai ragione prima o poi la devo fare e la farò più prima che poi fammi vedere quante spadine ho le trovo negli oggetti chiave ne ho due perfetto il numero giusto e allora rega dai togliamoci sto dente togliamoci sto cazzo di dente non ho non ho cazzi togliamoci completismo time si 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 togliamo liurnia deve essere fatta pensando che sepolcride ho sbagliato vabbè sei molto simile sepolcride è alle spalle vabbè facciamolo io l'ho già fatto questo dungeon facciamolo ho battuto questa roba senza mai livellare durante durante la prova e allora adesso con l'esperienza fatta cominciamo a studiare ah tra l'altro no me ne serviva una sola perché una ce la ma che è sto rumore hai sentito un rumore forse la nebbia che spariva no c'è qualcuno che urla come un pazzo bro ah si 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 questa è una cosa che avevamo discusso nel cnt ma che anch'io in blind mi sono dimenticato per un momento ma davvero esatto nel nel di notte di notte i crucifissi urlano perché la morte non esiste e quindi non muoiono è una cosa raccapricciante lo so prova a immaginartelo appunto in metamorfosi narrativa in immediatamente quindi tu stai ma sai che non me ne sono mai accorto io tu ma urlano tantissimo urlano tantissimo urlano tantissimo e fanno fanno una paura bestia ma io non la sapevo sta cosa lo fanno lo fanno lo fanno ma ma urlano veramente tanto ragazzi sono assorbanti perini ok cracra momento ragazzi scusate allora questa io l'ho già fatta tutta l'ho fatta con il samurai senza mai livellare pronti allora ci ho messo tanto tempo dardo dosso avverenato oh no ok pensavo adesso cominciamo a tomba dell'eroe degli acriti non avevo ovviamente prestato attenzione al nome ovviamente tutto cambia adesso che probabilmente la cenere che mi dropperà mi ricordo che droppava una cenere il il vermone ulcerato bravo scendi scendi e sarà lui l'eroe pensa un eroe talmente importante che questa catacomba ha trappole molto più spaventose delle precedenti è completamente diversa dalle classiche catacomba esatto eh fra ok bravissimo qui c'è una death box probabilmente in realtà quella è la soluzione del puzzle ricordi io qua ti aiuto no puoi girare anche io lo feci senza fare buttarsi di sotto ti prego certo ok fam ok vediamo sono riesci a farlo in tempo ok chad ma in realtà potevi andare anche più giù mi ricordo anzi forse il fatto che io ora non sia andato più giù mi punirà ma pensa un po' eh sì ora sei fregato esatto però io mi ricordo di averlo fatto in un sol fiatone ma che ficata eh infatti ora oh non muoio cosa madonna quanto sei forte ormai no bellissimo non ti ha shottato no io pensavo mi shottasse anch'io vedi se tu non la se tu non ti fermi ce la fai alla grande stupendo ah cosa davvero card ho sbagliato nell'ultima patch hanno nerfato il danno dei carri no 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 hanno fatto bene hanno fatto bene oh cazzo eh ragazzi c'è un problema cosa non mi prende dove devo andare ah qui di sotto ok dipende dipende hai diversi direzioni con premi con premi diversi si 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 no non farmi del male ti prego no ho sbagliato tutto ho sbagliato tutto sbagliato ragazzi scusate penso a quanta paura facevano questi affari e quanto sono merdoni adesso ho fatto un sacco di esperimenti ho fatto un sacco di esperimenti hai fatto bene hai fatto bene si non fai attacchi a distanza cosa? no è che mi sembra mi chiedevo il moveset di questo cavaliere adesso che mi fanno molto meno paura quelli che sparano robe quelli che si trasportano ma sono non normali cioè ti ricordi che in alto c'è quel cavaliere più forte terrificante che uccidevamo utilizzando il carro esatto me lo ricordo ora però sei morto giusto si ricordati che adesso c'è la famosa meccanica che tu intuisti essere la nuova umanità hai perso la runa ah giusto ho perso la runa non ti conviene riattivarla adesso ovviamente te però no certo giusto 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 hai fatto bene a ricordarmelo 40 livelli di cui però effettivamente Pave essendo poco eclettico fa uso laterale eh si ok Giulione vai su bravissimo e noi andiamo giù vediamo proprio la mossa cansa e mo vado dritto dritto proprio adesso giro scendo di sotto poi ci sarà da controllare il di sopra ah si si non dare per scontro devi aver visto tutto e runa eh no avete rotto i coglioni spero tu muoia dal carro guarda ci godo coglione no full choices quanto è lunga la risalita poco ok qua e allora mo vado insieme a lui vado insieme al carro adesso giro una con ballaria ottima ottima per com'è che si chiamava la roderica roderica ok bugata grossa ma se io faccio questo poi sotto che cosa c'è la morte sì ma questo è un ragionamento che hai fatto bene a fare è perché poteva esserci un segreto io l'ho esplorata malissimo nella prova appositamente assolutamente sono andato dritto ah ma certo ci mancherebbe altra infatti c'è una cosa che né io né te però in questo caso però motivi volontari non trovammo ecco e allora ora la troverò intanto mi godo loro che muoiono turbo attenzione ti propongo una cosa dimmi tutto lo facciamo insieme vuoi farlo insieme d'accordo per una volta che hai un boss già visto sì sì lo spacchiamo lo spacchiamo allora aspetta ah però sei online eh no eh sì devi andare online guarda liurnia liurnia è concesso dopo tutta liurnia la facciamo insieme tranne Raya Lucaria signor Bandai non mi illumini con questa luce incredibile la schermata di Bandai Namco è di un bianco assurdo tra l'altro che Chad cioè pensa al signor Bandai Namco quanto è Chad fai uscire Elden Ring sì e poi cambi logo e poi cambi logo bravissimo quanto cazzo sei Chad esatto a cambiare logo una settimana dopo è giusto così fa brillare fa brillare faccio di sabbia e d'argilla la punta mi brilla oh eccolo Joel let's go Joel il mio pink è incredibilmente alto io sono intentato io sono intentato bravissimo per laggare brava anche io sto laggando sto laggando tu immaginati le feste sbloombiane con banchitti dove e tutti che si siedono così sì esatto e poi mangiano portano alla bocca qualcosa ma non si alza il cibo perché stanno laggando perfetto siamo pronti senti Joel dicono dicono che all'accademia di Reia Lucaria ci sia una donna super intelligente che conosce un sacco di spell dicono che anche Tetsuya Nomura si è arrivato qui hai detto bastardo lui l'anca in forme diverse gli è piaciuto fare il trailer finto eh gli è piaciuto fare il trailer finto di Ted Mosco con quel fake au caudì e mo ne pagherai le conseguenze pericoloso col keyblade guarda ventus bravissimo esatto no esatto è un keyblade molto attenti sai do fra vieni giù vieni giù sì sì l'ho visto sta arrivando ah ah Tetsuya no per prenderlo col pungolo grande grande dovevo prendere questo danno hai fatto anche tu sono l'unico sopravvissuto io ho cercato di pungolarlo a distanza bellissimo Tetsuya Nomura sempre un grande cavolo cioè è incredibile ha usato un'arma che sembra un keyblade e ha utilizzato un potere di luce e oscurità fantastico ah comunque scherzi neanche troppo a parte Elden Ring ha dentro tutte le mosse di tutti gli shonen anime mai visti nella storia dei media dei media e poi fare se questa scena non diventa una fan art mi arrabbio sì ma cioè tu puoi fare roleplay di qualunque cosa e cosplay comunque dicevo che Pav ti suggerisce che c'è una donna dicono sia bellissima che è stata lasciata da un uomo conosce un sacco di quelle spell che ti interessano quindi magari Joel è arrivato il momento di aprirsi finalmente all'amore Joel non ha mai avuto relazioni sentimentali le ritiene una parte inutile della vita ma ma una donna come la regina di Caria potresti essere il re di Caria Joel lo fai raprividire più che lagare ora freme invitami invitami al matrimonio preparo io il banchetto in quanto Pav stai stai davvero mettendolo su una strada vedrai vedrai ma è un consiglio in quanto Francesco temo che Joel e Pav a un certo punto si scontreranno su un certo ideale perché Pav è comunque molto ordine aureo oriented mentre temo che Joel sarà molto stelle oriented e quindi vedremo prima o poi mamma mia ma non oggi non oggi oggi banchettiamo su questo verme esatto deve soffrire schifoso no ma no fa ancora male anche la sua arena far come salto minchia non gli facevo niente nel si si già così ora ha anche molti più hp si è vero dobbiamo stunnarlo ai miei tempi era stunnabile eh si no here comes the pain come oddio oddio ora esplode ora non più no ho missato buono guarda che bel dottino che ti ho messo attento alla nube argentata ok e dai stunnati mamma mia vermino oh oh ho fatto una brutta scelta è stunnati cazzo è stunnato è stunnato prendi quest'arma così lo facciamo arrosto che schifo e poi se ci pensi oddio ho fatto la scelta mentre morivo se ci pensi oh cavaliere esule ora so che cos'è esatto si è un esiliato da Leindel che tra l'altro ha la stessa armatura ed è un esiliato che non hai mai visto perché questo utilizza dual stavo dicendo che ci faccio caso ora il verme ulcerato è biologicamente molto simile alle dita perché è un verme lignoma con organi dentro un po' come le dita esatto quindi potrebbero condividere no? la stessa natura ti ricordi che quelle sulla torre le hai proprio viste di legno giusto ma io avevo già Engval giusto uno dei due cavalieri noti come ali della tempesta e mo c'ho l'altro erano Oleg e Engval leggiamoci di tutti e due prima Engval che dovrei aver droppato in un'altra catacomba mi sa ceneri in cui albergano gli spiriti usale per evocare lo spirito di Engval cavaliere Esule uno dei due cavalieri noti come ali della tempesta nonostante le condizioni di Esule la condizione di Esule perdonatemi rifiutò l'invito del benedetto dalla grazia restando per lunghi anni a guardia di un castello senza padrone e guardandosi fama eh guadagnandosi non oggi non so leggere e guadagnandosi fama di eroe dei confini l'altro invece Oleg ci dice che uno dei due cavalieri noti come ali della tempesta dopo l'esilio attirò l'interesse del benedetto dalla grazia ah quindi uno rifiutò l'invito l'altro attirò l'interesse e in seguito dopo aver ucciso centinaia di traditori in suo nome Oleg meritò una sepoltura eroica sotto l'albero madre ecco questa descrizione è molto importante perché mette alla prova il consiglio che ti diedi ora io sono qua per aiutarti perché è la prima volta che qualcosa è così esplicitamente legato a quell'int ma ti farà capire quanto è importante il benedetto dalla grazia lo hai già sentito nominare ma è normale in questo universo che tu non te lo ricordi il benedetto dalla grazia l'ho già sentito nominare sì ma è solo una volta ed è estremamente delicato quindi io sono qui per questo ma volevo farti capire in blind quanto è importante il benedetto dalla grazia è stato citato dinanzi alle bellissime monologhistiche descrizioni di Gideon Hofner ed è il re di Lendel ok il re di Lendel Morgoth e lui ti dice proprio Morgoth il benedetto dalla grazia e qui i bastardi hanno scritto il benedetto dalla grazia non Morgoth quindi ecco quindi in teoria loro sono esuli cioè sono stati espulsi ma Oleg era talmente potente idem per Engvall che in realtà Morgoth li ha rinvitati Engvall ha rifiutato e quindi è diventato l'eroe dei confini paradossalmente questa è la tomba dell'eroe dei confini cioè la tomba di Engvall però o forse anche lui è un eroe dei confini prima di accettare l'invito non lo so però comunque Engvall non accetta l'invito e rimane fuori come fanno per esempio tanti cavalieri che ora servono Godric mentre Oleg ritorna all'Eindel e infatti guadagna la possibilità di essere di nuovo seppellito sotto l'albero madre e infatti troviamo qui troviamo qui il suo le sue ceneri Oleg Engvall cazzo l'avrei voluta una boss fight con loro vero sono ceneri in mio possesso quindi niente hai fatto benissimo a dirmi questa cosa di Morgoth ma certo ma certo si torna indietro cavolo difficile tenere tutto a mente mamma mia sarà sarà bello essere in due vedrai ma no era eroe degli acchetti non di confine perdonatemi allora niente non non ha senso quello che ho detto allora adesso faccio la strada che mi dicevi sei pronto ad avere un brividino che non avresti mai potuto ottenere prima che finissi Elden Ring ho un trivia per te ok io mi sto adesso aprendo a tutto ciò che prima era sigillato non ho osservato perdonami perdonami ah ma tu sei uscito dalla prigione sì 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 mi ero detto di dover fare una salita e poi mi sono teleportato esatto e non lo so ma non solo c'è la salita c'è anche quello che non abbiamo trovato ah giusto me l'avevi detto che abbiamo esatto ma ma c'era una salita che volevo fare esatto ti aggiungo un trivia sì parlammo spesso del cat content in Dark Souls 3 tra cui il boss finale che sarebbe stato Sullivan e soprattutto una delle cose più affascinanti che in Blind tutti abbiamo sofferto più di tutto il resto perché dinanzi a una storia che era particolarmente complicata da interpretare senza traduzioni corrette Dark Souls 1 inteso come sarebbe dovuto essere inteso c'era un cat content in particolare che soffrimmo tutti ossia uno dei boss tagliati in Dark Souls 3 si chiamava Snake Soul che tutti correlavamo a Frampt Kath and Company certo bene i furbi il furbacchione hanno ripreso il cat content di Snake Soul il suo scheletro in moveset e lo hanno messo allo spirito arboreal cerato ah è lui abbiamo praticamente visto nascere qualcosa che altrimenti sarebbe sempre stato perduto peccato che l'abbiano messo in una stanza de merda però esatto esattamente bella per Snake Soul e qui si fa il butto c'era la salitina che volevo fare esatto oh mio dio sento il carretto proprio dietro la mia nuca e infatti ne ha un po' niente qui ci si può buttare eh mi sa che lo piglio un culo il carretto non importa non le accorrono è una domanda non alzarti ora non alzarti ora ah c'è qualcosa guarda lì visto? non tutti i mali vengono per nuocere figata essere morti qui che tra l'altro è assolutamente però non era quello non era la salitina che volevo fare che poi tra l'altro è design perché di solito si muore proprio dopo la discesa però non ho non ho aspettato bene il carretto questa questa era la cosa che non avevi trovato esatto nope not gonna happen eh però dai sali oh sta salendo questo era proprio il carretto dell'antivivere nella morte ti sei per caso risvegliato dopo un lungo sonno beh rimuori si chad mamma mia che chad data adesso tempo del butto si devo rifare il butto ma quindi buttarsi da qua è safe in teoria si safe o no i cazzetti buffi ok catacombica la situazione perfetto bevino ah pensavo fosse un nemico è successo è successo ok ma come ma come non puoi ma è illegale da stronzi da stronzi metterlo qui mamma mia se lo è ok ok sto a posto non succederà yay muro invisibile no andiamo su ovviamente non ti permette scu no che potta grasso folgorante credo sia nuovo è nuovo ora lo leggiamo datemi un secondo grasso folgorante sarà consumabile un consumo si grasso solido ottenuto da una miscela di materiali folgoranti si applica all'armamento e infligge danni da fulmine vabbè l'epoca ha una durata limitata vabbè quando ci serviranno grassi danni da fulmine ci troveranno qui con il nostro grassino ma che bello hai visto oggetto viola questo posto ma al di là poi dell'oggetto viola è proprio bello il posto gestivo niente oddio ok no cosa va bene va bene va bene va bene non c'è problema ah ma con quale nonchalance l'hai vissuta oh guarda oh ma guardate signori due su un ponte stretto non c'è problema no non c'è problema tutto ok perché noi lo facciamo dove è congeniale non è vero è congeniale anche a lui ci posso è congeniale anche a lui però l'altro si è rincoglionito quindi va bene ok 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 ragazzi ok potere gran tempesta non ha funzionato tastico ok buono via devo smetterla con questo attacco in salto sarà la mia morte come effettivamente è stato yeee ho perso anche tutte le anime perché non le ho riprese vabbè dopo godrick vabbè erano un sei cappini ok ok si rifanno agili oddio no forse erano di più perché c'era anche l'ulserate di palle max forse erano di più oh no non c'è alcun checkpoint devo rifare tutta questa parte del però per buttarti puoi anche non fermarti mai praticamente però si qua ti freghi questa è la trappola hardcore della tomba segreta avanzata di early game eh fuck c'erano anche le anime ora non so quante fossero le anime dell'ulcerated ma ad ora mi sa che erano un bel po' ah uuuuh eh sì vabbè vabbè sti cazzi non ci ho proprio pensato mi sono buttato il carro mi mette ansia è buono eh no aspetto che riscenda ok adesso risale e adesso ci si butta che stupidino non averle riprese oh muoviti 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 ah ma si può buttare ancora più di sotto sì c'è un altro di sotto ragazzi avete visto? ragazzi c'è un altro butto c'è un altro butto grazie alla donazione white mask varre che scrive handled like a chad più o meno grazie mask varre è sempre grande supporto eh sono stronzo sono stronzo sono stronzo non ci ho pensato di nuovo non è vero cristo ora il sanguinamento mi ammazza beh ci godo è la giusta reazione goderci sì ora però siamo un po' nell'uscita perché abbiamo una estus in una zona dove non vuoi avere una estus però una estus abbiamo vabbè giocheremo molto bene questa sfida dai venite fuori e dietro front volevo fargli il backstab dell'amore di quando fa il salto in avanti ok ok ci vuole del congenialo hai presente il detto chiodo schiaccia chiodo e runa schiaccia runa ha senso il miglior modo per consolarsi dopo aver perso delle rune è fare il gabbo massimo quella strategia si parli il fuoco vieni qua vieni qua no 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 vieni qua ho detto devi venire qua si si passa qui vai vai ce la puoi fare amico no no e quanto ci mette a sparare il fuoco quel cesso oh mio dio oh no sono mai entrato in questa stanza cioè si ma non adesso via 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 devono passare nel fuoco devono passare nel fuoco si io ho l'ingegno sono un essere umano più o meno e dai e dai con sta telecamera oddio madonna che bordello non penso che finirà bene ok buono però non ho più estus ok buono adesso devo passargli di nuovo dietro no 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 sei vivo nessun problema nessun problema ragazzi stai benissimo sto benissimo sta arrivando il ragazzo si ok ok si si ma che cazzo ma cosa mi ha ucciso ma può tirare cose lui no non ho idea di cosa ti abbia ucciso o mi hai preso un infarto potrebbe o mi ha ucciso qualcosa che non ho idea forse è la lama che si è compenetrata in qualche parete no 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 era proprio un range d'attac forse un infarto si no nope ahia ok buono ok buono nice basta 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 è buono adesso torna su noi però facciamo il butto e ricordiamoci che poi c'è anche il doppio butto quindi quando avremo finito probabilmente il doppio butto è come tornare su o giù definitivamente perché altrimenti poi come fai bravo non dobbiamo sprecare estus oh l'ho detto l'ho detto l'ho detto Sidonia l'ha detto ragazzi poi tra l'altro due semi d'oro e manco l'ho usati ok basta basta non si sprecano più estus anche se non ho ben capito come fare dimmi non ho attacchi ranged qui o forse ho dei coltellini per far cosa si ho dei coltellini eh per per colpire alla distanza quel cosa e disattivarlo aspetta eh miro così col binocolo e poi faccio così funziona? si ha funzionato ok ragazzi dobbiamo dobbiamo combatterlo con chaddanza non c'è verso ovviamente il di sotto il di sotto ma non posso il titolo ti propone anche alternative ma combatterlo con chaddanza è una cosa da fare in effetti credo che si possano buttare anche di sotto eh nope sono bastardi eh questo me ne sono accorto no ma sono vivo ti hanno fatto scoprire loro il segreto beh è successo di design in teoria secondo il designer dovevi avere paura e buttarti ah e e ora e boh i messaggi non puoi leggerli no no certo che non posso leggerli beh ragazzi non posso fare altro che buttarmi in effetti e loro arriveranno qui si butteranno anche loro no ah ok ma questa è merda ragazzi no credo sia putrescenza proprio povera greyhall oh e no aspettami vabbè non mi ero neanche accorto di averlo attivato dai scendi dai scendi dai scendi ma magari c'è un segreto qui il maestro non ha trovato non è vero il maestro ha subito guardato lì sotto ahahahahah ok ok good eh il godimento si massimizza eh si massimizza si massimizza non mi sembrava ci fosse nessuna zona intermedia raga ok oh buono quello ah quello è un nemico poi lo stesso moveset dei cavalieri tu pensa che sono gli incontri prima di Stormvale che paura ma guarda bene e ora sono tornato di sopra però allora sei tornato di sopra però c'è un'altra viola lì no eh allora 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 ora visto che questa run è una blind ma deve avere una forma di interazione di questo tipo per forza di cose altrimenti dura 200 ore come la mia qui hai il permesso di leggere i i messaggi a terra io avanti nemico ok spero che siano smart fai attenzione a qualcosa di incredibile prova arco ok oh posso disattivare il carro tirandogli addosso i vasi eh però non ho arco ce l'ho la balestra carica ce la balista carica no però dovrei avere un archetto del cazzo da poter usare ce lo dovrei avere infatti ce l'ho no forse non devo colpire i vasi però sembrano proprio loro guarda lì eh sì ah devo devo farlo a tempo narise ok 1 2 3 ok ce l'ho e ho 3 tentativi 1 2 3 ora ah ho sbagliato però era giusto il timing 1 2 3 eh so schifo a mirare timing è giusto nessuna fretta 1 2 3 giusto è giusto è giusto ah ma ci mette un casino a cadere cazzo eh fuck un solo tentativo oh no eh eh devo essere molto più veloce adesso no troppo tardi credo adesso no si no oh beh tornarci è facile eh sì per carità cazzo è difficile raga o meglio io l'ho trovato difficile no ma non è facile il timing è da stronzi eh ma mo è un casino io non posso tornare da nessun'altra parte che non sia lì di sotto vero eh sì perché qua ci sta l'ascensore cazzo difficile ok lui ha deciso di andare per la tangente io di questo ne sono molto felice eh 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 potevo essere un po' meno pavido è andato a fanculo il ma questa è la discesa solita no sì ok ok perfetto top busto quante estus abbiamo? una e e quella diciamo del balsamo portentoso sì allora c'era un oggetto viola se non ricordo male lì dai affrontiamolo chaddamente pensate che figo con due trina o con qualche abilità più legata al pvp ho voglia di fare una build pvp ragazzi quanto sarebbe bello fare una build pvp ne ho in mente almeno sei ne ho in mente almeno sei fare personaggi pvp no cacca miseria va bene va bene bisogna imparare a farli questi eh mamma mia eh questi questi sono proprio i bullshit mob comunque eh ora te lo attivo però ora te lo attivo è come bro e adesso che ho finito il tenderling finalmente potrò farlo no perché non lo spari perché se non ci passo davanti io non spara niente no spara comunque eh sì dopo un anno però è lentissimo sì mi sono rotto il cazzo vado prima a prendere l'oggetto e poi vediamo io volevo esplorare le urni a catacomba di merda non ucciderli non ucciderli no ma infatti non li uccido sono troppo forti qui dentro poi l'alternativa è un ponte completamente pericolante oppure delle strettoie del cazzo oppure tre metri quadri di piazzetta no non li ucciderò farò semplicemente il rubo dell'oggetto e farò il pavido vero e poi manca una salitina però ancora sì c'è ancora la salitina esatto è grossa è palesemente un tortisiano esiliato perché ha il naso quello è un naso tortisiano quello è un naso tortisiano ora c'è quell'altro che arriva eh ci godo sono qui bravissimo no ti prego ti pago ok non sprechiamo le estos non sprechiamo le estos molto bene non sprechiamo le estos e dai non sprechiamo le estos con una build pvp ragazzi ci divertiremo un botto ci divertiremo un botto sarà troppo figo porca miseria madonna non vedo l'ora oi quanto ci ti diverte l'ho preso favore dell'albero madre what what is that oddio che cos'è quella l'altro si sta pericolosamente avvicinando quanto ci mette ci ho provato ok buono oddio bravissimo ora fa di nuovo il beyblade no ok mamma mia quanta potenza tanto se muoio ragazzi non importa ho perso mille anime ma se vivo gloria eterna a me ok troppo forti scudarmi ok oh no è arrivato il fratello orso no ah non fanno friendly fire è finita ma bravissimo ragazzi no ma perché mi insegue quello che fa che c'ha più vita ok non mi inseguono tutti i due fantastico ok la mia unica speranza è che uno dei due si prenda tutto il fuego in faccia io ora mi metto qua no c'è ancora lui highlander no era fatta ragazzi era anche morto era fatta era fatta vabbè basta basta ho depredato tutto il depredabile beh non hai distrutto il carro giusto che potrebbe avere un oggetto al suo interno allora intanto mi leggo il favore dell'albero madre che è un talismano non l'ho guardato purtroppo è un talismano sì favore dell'albero madre talismano raffigurante una benedizione dell'albero madre è marica praticamente eh sì incrementa leggermente i pv vigore e carico equipaggiamento massimo è fortissimo si narra che questi talismani siano stati consegnati personalmente dalla regina marica al principio dell'era dell'albero madre quindi era minchia sì un momento nel quale però l'ordine aureo era ancora molto dolce certo non occhi cavati ma esatto bellissimi talismani esatto esatto anche perché l'effetto è proprio lo stesso udolo this goes ciao no ho sbagliato il timing adesso mi arrivo addosso e vabbè worth it no non è vero ho avuto tanta paura maestro mamma mia indietreggiare con loro a volte è la cosa migliore ok oh mi scordo sempre mio dio no 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 ho sbagliato tutto ho sbagliato tutto ragazzi ho sbagliato tutto 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 ma sono vivo perché Gesù mi vuole bene oddio devo dirti una cosa mi sono ricordato cosa allora 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 chat di saido la componente immagino comunque piccola che non è blind lui non vi sta leggendo ma anche fra di voi non fatevi spoiler chi capisce cosa intendo chi capisce cosa intendo e chi ha finito Elden Ring e conosce il gioco non avrà dubbio nessuno nessuno potrà dire se o ma A o B è solo C ridete non dite cosa ridete fra voi fra io ti ho pensato intensamente durante la mia blind run in un momento perché non è mai esistito in nessun videogioco che tu abbia mai giocato secondo me e sicuramente non con me no 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 ok ci stavo a pensarmi ma ti cito ma ti cito diciamo in qualcosa credimi esiste un boss in Elden Ring in cui ti sentirò dire nel modo più corretto coerente e giustificato della tua vita da videogiocatore no no ti prego ti pago fermati ti pago ti giuro ah ok ci sarà il momento ti pago ti giuro ci sarà il momento ti pago e tu mentre lo facevi hai pensato io che dico sì sì ti prego ti prego ti prego perché guarda non hai idea ok ok ora concentrazione massima aspetta prima ci sta Gianni Todarico non so che cosa io abbia fatto ma qualcosa di decisamente sbagliato ma sulle scale davvero ah che treno che è sto cosino nooo mamma mia ma cosa vuol dire ma l'ho preso super close super close ragazzi la chat ora è più libera di fare spoiler ma non è che ve lo dico esplicitamente ho fatto il gesto uno warrior warrior ti ha proprio scammato ah l'hai preso ok no no ho preso arco pesante quindi ah un oggetto davvero eh beh altrimenti non te l'avrei fatto fare arco pesante dell'albero madre arco pesante dell'albero madre questo mi sa che potrebbe piacere molto a Pav eh sì anche perché è fede esatto arco pesante che richiama l'albero madre quest'arma fu progettata insieme alle frecce grandi auree nei tempi antichi che ho droppato in teoria quando le battaglie erano una prova di fede potenzia tutti i danni da freccia in base alla fede e rivela tutta la sua potenza quando scocca frecce in crisi di sacralità minchia l'abilità fino in fondo minchia è proprio lo sexuala potente tecnica che sfrutta un'impugnatura di traverso dell'arco pesante posiziona l'arco poi torcine eh torcine torcine poi torcine la corda non ho immaginato queste piccole torce poi torcine la corda per scagliare una freccia pesante in grado di trapassare i nemici è tutto è proprio deep bello mi piace voglio subito livellare questi quattro punti a fede le frecce freccia grande ah ok non sono frecce auree frecce pesanti delle dimensioni di una lancia minchia da impiegare con archi pesanti usate da arcieri dalla forza mostruosa assoldati da un comandante d'esercito vabbè qui sono gli arcieri del generale Radan secondo me sono loro abbiamo finito giusto? si no la salitina la salitina ah giusto era vero ancora non hai fatto la salitina eh la salitina fa adesso canonicamente per me ci sono le torcine come armi aggiuntive volete che da invasore Mikuri faccia l'assassino? e faccia il il combattente onorevole solo con i duelle potrebbe starci eh potrebbe starci perché fare il bastardo in invasione penso che sia divertente specialmente quando non hai una build più up ci sono vari cavalieri devo stare anche molto attento perché altrimenti morirò bella for me ho fallito il backstab è sempre un ritorno di mandibola ah il cavaliere pazzo fortissimo ma è un farum asula che testa? non capisco ah no ok era semplicemente il cappuccio eh bro non ti è andata benissimo eh ora si ora gli è andata un po' meglio Cristo è fichissimo sta provando le armi e le weapon art tra l'altro mi ha fatto un roll catch bellissimo oh mi piace lui sta detonando mi piace Cristo e questo è non giocare due settimane nel ring è l'ultimo drop che ti manca e va preso forte lui si lui è molto forte mi ha arrostito mi ha arrostito quanto cazzo si muore in elden ring ragazzi oh più più che in qualunque altro souls e tu non hai visto proprio niente se pensi che si muoia adesso secondo te perché Gideon sta lì a leggere e a grattarsi le palle perché altrimenti si muore fuori sono stati un'ora qui dentro guardavo adesso abbiamo finito l'intro a più o meno un'ora dall'inizio e ora siamo a due ore di streaming però non avrai più nulla se vuoi credere no 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 ma abbiamo fatto super bene infatti e ti dirò ti dirò seriamente il drop che troverai qui non è solo collezionismo fa godere eh tanto si anche di gameplay ci sono dai dai bro combattiamo ma combattiamo seriamente focus questo colpo di scudo mi ubriaca non è vero pensavo mi ha salutato io pensavo di poter giocare un po' all'inizio sto facendo i castini è andata cattivissima ho malinterpretato il giocatore mi scusi signorina non sta non è la mia intenzione fare sul serio scusa cazzo perdona era un addio esatto oh mio dio oh yeah oh oh noi sappiamo bene che cos'è la comunione draconica il grasso draco lacerante in realtà ha super senso lo so non voglio addormentarli tutti non è una build più o più giochiamo yes non è un talismano è un sigillo per castare non ho guardato ah giustamente non ho guardato l'icona sigillo per castare sigillo per castare ha un robo a parte no non ricordo male cioè si si dovrebbe fammi vedere no 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 non ce l'ha non ce l'ha è nell'equipaggiamento base in fondo si 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 le armi no non è nelle armi ah perché non è nell'equipaggiamento aspetta fammi vedere è negli archi apposta ok perfetto smart non ricordo mai intanto guarda quanto pesa zero non è male sigillo pesa zero dove è scritto il peso ah peso zero quindi in realtà è tipo etereo esatto perché è proprio un sigillo è un marchio sigillo amorfo di sangue di drago con lo stemma della comunione draconica potenzia gli incantesimi della comunione e infatti il cavaliere lo usava il cuore sacrificale conferisce potere a chi se ne ciba lo sappiamo in effetti definire incantesimo il primigenio rito della comunione draconica sarebbe inappropriato infatti non è un incantesimo è più un eh sì un rituale sacrificale non saprei come altro definirlo questo digillo potenzia gli incantesimi in base all'attributo arcano nessuna abilità comunione draconica ci siamo solo avvicinati lontanamente a lei sappiamo che un tempo si cacciavano draghi questi draghi venivano uccisi gli venivano estratti i cuori venivano mangiati e sacrificati all'altare che si trova a est mi ricordo male? male per niente est ok c'è est questo altare beh puoi andare via ci sarà un collegamento tra il semidio del sangue e il culto del mangiare il sangue di drago? beh è una domanda lecita ma ci sono veramente zero informazione riguardo per ora già bravo che ti ricordi la mia ultima richiesta no più che altro potrebbe essere il posto della foto? no te l'hai già chiesto non è qua non è qua poi li troveremo faremo il momento foto ma voglio andare agli urni adesso si ma ricordati che devi passarci adesso a piedi da lì eh si si certo e la strada è questa ma voglio guardare bene tutto è giusto ma devi perché se ti ci mando non è casuale uno dei pipistrellini sono felice che tu hai un... ehm io voglio ti anonire un... 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 per servire il Luminarimoog il lord del blood e un nuovo dinastia il Luminarimoog ha fortuna visione e fammi vedere dove sei eh si guarda ho fatto un circunnavigazione pazza adesso guardo anche dall'altra parte qui potrebbe nascondersi un NPC capito sotto sto ponte del cazzo qui c'è un oggetto intanto pezzo di carne wow ma fa chi un pezzo di carne i pistrelli questo che cos'è unicolino fungino si si bravi bravi eh qui nulla in realtà perché si ritorna sulla strada di Margit ma non ci interessa qui c'è una bella pietrona e niente andiamo avanti sulla strada però c'è un ponte completamente è un NPC leggi di tanziana un'altra ok va bene eh già esatto ehi là guarda che piedini pazzi cosa puoi leggere ah proprio le mie dita fantastico certo cioè l'albero che glint stoni and non and riunite the half presents at the grand lift oh but the bridge has collapsed and cannot be cross o l'albero why should that matter storm veil castell Allora Questo è uno di quei dialoghi di cui bisogna segnarsi le cose Non trovi? Sì, il montacarichi Grande montacarichi Riunisci le mezze lune Riunire le mezze lune per i grande montacarichi No, non volevo fare questo Ah, me lo farei fare? Quante volte vuoi? Dirigiti verso le fondamenta dell'oro Attraversa Reia Locaria Espro di scintipietra Ricomponi le mezze lune al grande montacarichi C'è da dire che le mezze lune Mi aspetto proprio di trovarle a Caria Dove c'è quella luna gigantesca Quindi le legge di età Non leggono solamente le dita enormi Ma anche quelle delle mani normali Esatto E qui facciamo il rubo Uh, dai È quello dei dardoni? Da balista? Quanto lo aspetti? È lui, è lui Dai ragazzi, è lui Non può non essere lui Dio caro Cotone morbido Boli tampone Freccia di pietra arcobaleno In che senso? C'è una freccia ma è Una pietra arcobaleno? Esatto Molto utile Ma lì c'è una Ah no, ok C'è semplicemente la strada che devo fare Però sento Sento uno scintillarra di godo C'è qualcosina Uno scarabeo Pazzo Lo sento ma non lo vedo Continuo a sentirlo Allora, vediamo Qui c'è niente Mi è sembrato di vedere un'entrata Una grotta Ma Se mi sbaglio Cosa cazzo c'è qui? Ehi, ehi Pav Oh niente Semplicemente un cunico lì No E siamo già oltre Eh però mi sono perso il Lo scintillar di godo Eh lo sentivo Eccolo, lo sento di nuovo Eccolo lì L'ho visto Grande E' una cenere di guerra Dobbiamo assolutamente fare In modo che sia nostra Potrebbe essere un'abilità incredibile No Non buttarti di sotto Oh no Non siamo più in Demon's Souls Mi azzacchi e magnanimo Muro Tempest Ma cos'è un Perry della Tempesta? Esatto Ma è bellissimo Cenere di guerra che fornisce No, che non fornisce alcuna affinità all'armamento Ma conferisce la seguente abilità Muro Tempestoso Agita lo scudo per generare dinanzi a te Un fronte di vento Che respinge frecce e altri proiettili fisici Si può anche usare Come una normale parata Ma è bellissima Questa la metto subito su sto scudo Cambia anche il tempo di Perry O il tempo di Perry rimane proprio dello scudo Le abilità di Perry cambiano i frame Sia nell'attivazione sia nella durata Ok, quindi in realtà uno stesso scudo Con le scenerie di guerra differenti Può avere timing diversi di Perry Ho capito bene? Sì, io ancora non ho approfondito Ma adesso che mi sono liberato Ho fatto qualche googlatina So, e aveva tanto voluto saperlo Prima Che tu praticamente puoi avere Perry Migliori del brocchiero Su qualunque scudo medio Quindi è proprio una madonna Allora andrebbe provato sto Perry Guarda che figa sta stradina Ed eccoci, è cambiata la musica Siamo all'Iurnia Andiamo a piedi Carne buona Joel per dopo Carne buona E io ragazzi mi sento nudo Senza Perry Quanto ti capisco È stato una vita per reare le cose Invece in questa run Con questa arma così diversa Da quello che facevo di solito Mi manca il Perry Non mi manca la build Dex Ma mi manca il Perry Chi permettere Comunque vi dico Una delle cose che più ho sofferto Mal intuire e sperare Nel cennettino Gli episodi prologo Dall'Anima della scoperta 7 Era È stata l'esistenza Della concentrazione Di Indiana Ossia mantenere gli incantismi Sotto i volpi Peccato che non esiste Rieccoci Come vedi Ne è valsa la pena Un dialogo segreto E un recitario Assolutamente sì Sei a Livornia Direi che quella è decisamente La torre divina Ha la stessa forma Bravo È proprio lei Ma riprendiamo L'esplorazio pazza E Dall'inizio parliamo con Bok Quando vorrai Possiamo farlo anche in coop Ma Comunque senza torrent Forse è un po' scemo Quindi Se vuoi fare qualche dungeon insieme Quello che troverai Tu esplora Libero Master Come sarto Come sarto Che vuol dire Che vuol dire Praticamente gli toglie il mantello L'ho visto adesso Gli abbassa il peso E un po' le difese Ma anche l'estetica Beh carino senza mantello Carino senza mantello Cos'è non dirmelo Vediamo un po' Grazie Ok Semplicemente Un'altra frase introduttiva Certo 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 Bok Starò attento Ma in realtà Sono contento Con il vestiario Attuale Di Pav Dobbiamo Ma potremmo rimettercela La runa Ah no ma non Dobbiamo semplicemente Attivarla Già Esatto Beh si Nell'esplorazione Fa figo Incrementa Il ripristino Delle ampolle No Aggiungi carica Mazza quante Ne avevo tre mi sa Minchia ora ne ho otto Gran poggata Bene Ragazzi Sembrava impossibile Ma per l'ennesima volta Liurnia Comincia adesso Ma E il maestro Rompe sempre le scatole Non hai letto ciò che droppasti A Liurnia la sera In cui non resistetti eh Qual era L'oggetto Una pergamena Ah si non l'ho letto Ma mi ricordavo di sì Forse No 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 Ti impedì di leggerla io Una pergamena Oggetto chiave Eccola qui Pergamena Dell'Accademia di Reia Locaria Centro di sapere Degli stregoni Della scintipietra Se consegnata A uno stregone erudito Gli permette di accedere Alle seguenti stregonerie Scheggia di scintipietra maggiore E scheggia di scintipietra veloce Centro di sapere Degli stregoni di scintipietra Che però Scintipietra E' irreperibile Ovunque Non solo qui Questo è solo il centro di studi Ora Per scendere dove volevo scendere Come? Liurnia Sì sì Per scendere dove volevo scendere Mi sa che devo tornare Nella stradina che stavo facendo Come si fa a scendere Là sotto Se mi devo abbassare Da qui E poi risalire Sì sì forse è la cosa migliore Abbassarmi da sinistra Si starta finalmente Con una nuova mappa ragazzi Sono gasato E' fatta Una vera nuova mappa Di Elden Ring Let's go Già Ci siamo già stati Sì sì io voglio fare bene Tutta la parte A destra Quindi adesso si scende bene Ecco si scende da qua sotto Mi sa Sì è così Oddio muoio Ok non è vero Giusto Qui c'era l'accampamento pazzo Ma noi lo ignoriamo Stavolta Perché il nostro obiettivo E' andare semplicemente Su questo sentiero Quindi Eh per ignorarlo Stai esplorando a destra Giusto? Sì Sto esplorando Esplorerò tutta questa Mentre qui ignoro In realtà l'ho già fatto Questo accampamento Ah ma guarda ti capisco Anche io mi segnavo Dei confini Ove i quali Signorava tutto E lasciamo perdere Anche questo Questo laghetto Ok per ora Il nostro obiettivo è Questa sezione qui Tutta Quindi Per ora Ci Proprio Dimentichiamo di questa parte Ne dimentichiamo completamente Qui però Dobbiamo andare piano Perché altrimenti Potremmo perdere Nelle ombre E nei Giochi di luce Preziosi ingressi Allora Fammi vedere dove sei Un momento Qui Sto per fare questa parte Quindi sei Lì Vabbè certo Stai ignorando Completamente Tutto ciò che è Ovest Perfetto Sì Sto ignorando Ok Perfetto Cioè fate finta Che questo non esista Adesso Perché se non Dividiamo L'esplorazione La mappa Io esco pazzo Ma ovvio Nessun ingresso Tombettine pazze Lapidine pazze Oh no Ma è su il sentiero No non è vero Non sto lasciando nulla Qui vero Non ci sono ingressi Fottuti di cervello Non sembrerebbe Ok Stiamo arrivando Sul sentierino Che peraltro Guardate Ha proprio Quello che ci serve Il salto pazzo Ed eccoci Dove volevo essere Perfetto Abbiamo anche Guardate Abbiamo anche una grazia Si gode Si gode proprio Molto bene Molto bene Molto bene Molto bene Strada maestra Di Liurnia Sud Ora facciamo Ora facciamola tutta Indietro Per essere sicuri Che l'indietrino Bravo Non abbia segreti Per noi Ammazziamo loro Che mi stanno sul cazzo Oh no Stregone di scintipietra Leggendario Come farò C'è un carro No non è un carro Si è un carro Ma è Fermo Andiamo piano C'è un carro Fermo C'è un accampamento Di soldati Se è il caso Di ammazzare Il soldato È il nemico Più pericoloso Ma mi noteranno Quindi È andata così Oh i soldati Qui tirano C'è Esatto Le rocce Di scintipietra Proprio Esatto È giusto Ha senso Se no Che stanno qui A fare Ti piacerebbe Oh Sopravveste Del cuculo Ce l'avevo Mi sa di no Molto bene Corazza Dei soldati Dell'accademia Di Reia Locaria La sopravveste Reca l'immagine Dei cuculi gemelli A guardia Di uno sfarzoso Cumulo di scintipietre Dai allora È un cuculo pazzo Quello che ha La runa L'uovo Di cui si parla Per gli stregoni Scintipietra Il corpo è materia Effimera Solo il cuculo Pur comprendendo Nell'irrilevanza Lo difende Senza posa Eh Quindi il cuculo Cos'è un ordine? Perché è con la Maiuscola qui Esatto Lo è È un ordine Di cavalieri? Sì Difendono il corpo Anche se il corpo Non è che Esatto Effimero Andiamo a vedere Perché è fermo Questo carro Ha perso forse Uno dei due troll Ne vedo solo uno Attaccato Ah non si è proprio Staccato raga Esatto Il ponte è crollato E sono rimasti Impantanati Eh niente È andata così Eh lo so Wrestling momento Per lui Bene così E arrivederci Grazie Non ha droppato niente Lui no Poverino Però qui ci sarà qualcosa di prezioso Scopriamolo insieme Oh lancia arborea Quindi full ordine aureo Eh già Lancia arborea Lancia aurea Di foggia arborea Brandita dai cavalieri A guardia del palazzo Della capitale reale Di Leindel Infligge danni sacri Il suo utilizzo Richiede una destrezza Straordinaria Beh mi sa che l'abbiamo vista Nelle mani Dei cavalieri esuli Questa roba qui Ma nelle mani giuste Può eseguire Affondi consecutivi Nonostante le dimensioni Abilità sacro ordine Abilità dei cavalieri Fondamentalisti Dell'ordine aureo Allora no È in mano ai fondamentalisti Dell'ordine aureo Che ancora non abbiamo combattuto Esegue un saluto E conferisce Un'essenza sacra D'armamento Figo Altamente efficace Immaginavo Contro coloro Che vivono nella morte Guarda Provai a equipaggiartela E al di là D'osservarne il design Equipaggiarsi le armi Ricordati che È utile anche per vedere Incisioni Modello di gioco Cioè È tanta roba Però Devi assolutamente godere Dell'R2 caricato Oh Con doppio colpo Doppio colpo Questa più che altro Contro i boss Ha un range disarmante Cioè alcuni tipo Prendono la hit E non ti fanno niente Esatto Bella Ok Buono anche L'infilzino Questa qui richiede È Questa Proprio Anti-Pav Ma 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 Cosa ci eravamo detti Asha La mia Ashoas Trovo mai La grandatta Eccola E soprattutto Ne abbiamo una Ma Let's go Boom Saita runica Ora Qui di sotto si muore Credo Ma Worth trying Perché l'altra volta Abbiamo trovato Il segreto pazzo Ci sono dei messaggi bianchi Ma sapete bene Che non vuol dire un cazzo In questa community Esatto Fottuta E bastarda Per ora Riesco a ritornare Su facendo sta roba Quindi Proviamoci No Ah no C'è niente Non c'è nulla ragazzi Andiamo via Ok E quindi come vedi L'indietro Appagato Altro che Esatto Abbiamo trovato Una bella lancia Abbiamo scoperto Dell'esistenza Di cavalieri Fondamentalisti Quindi Coloro che Veramente Odiavano Chi viveva Nella morte Chi era fuori Dall'ordine aureo Già Amici Di D Esattamente Amici suoi Ok siamo diretti Al punto numero uno Waypoint numero uno Potremmo ricaricare le Estos Già che ci siamo Non sappiamo quali sfide ci aspettino Quindi Perché no Let's do this Cos'è quello E' un'altra di quelle teste Fluttuanti Che abbiamo affrontato No 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 è una mongolfiera Pensavo fosse una testa Di stregoni Ammassati Come quella che avevamo visto A Sepolchere Ma non è così Intanto Facciamo L'ammazzo Ce n'è un'altra qui Eh però guarda Sono proprio quelle marionette Eh sì Esatto Sono proprio quelle marionette Quei costrutti Generati da alcuni stregoni Esatto Tu trovasti In un drop La scoperta di cosa sono Com'è che si chiamava Selna lei? Selen Selen Ecco Selen però non era molto contenta Di sti cosi Per niente Bravo Diceva che erano molto lontani Da Esatto Bravissimo Dalla deontologia Forse dell'ordine aureo Ah Selen e l'ordine aureo Non sono molto vicini Eh scusami l'ordine aureo Perdonami Perdonami Reia Lucaria volevo dire Esatto Ok ok Sì sì Ah sì funziona Eh Ok rune Sì ma rune di livello 6 eh Quindi sono Sì sì Quindi sono Dei contenitori di rune Esatto E fammi provare Se le disattivo Muoiono le marionette No Sono semplicemente Dei contenitori di rune punto E anche da un po' che è Già Sono un ottimo modo Per fare level up Tra l'altro Le lo sai tanto Vediamo 2000 Questa è una descrizione nuova Esatto Grazie a che alberga negli abitanti dell'interregno Come una sorta di residuo aureo I nati all'ombra dell'albero madre Possono ritenersi privilegiati Quanto meno questa è la cieca convinzione Di chi vive nell'alto piano E attenzione al narratore onnisciente Che qui ci dà un giudizio abbastanza importante Che cosa? Paggino Ah ok Ci dà una Un giudizio abbastanza importante Definisce cieca Definisce cieca questa convinzione Quindi Forse no Non era così un grande privilegio Il gioco ci racconterà questo Attenzione che questi Avendo un sacco di braccia O no cane E' bellissima L'animazione innaturale Con la quale Si Sparan le frecce Mi piace un sacco Cane No no il cane mi fa paura ragazzi Il cane mi fa paura Il cane non mi mangia la runa Oh e dai Ok Il cane ha sbagliato tutto Ok affrontiamo questi bastardi Però dobbiamo farli Fuori con criterio Ok Ma io adesso mi calerò Come un grande su di lui Poi scappiamo Si non c'è problema E adesso una volta che hanno finito la loro frenzy Noi facciamo Il tempesta pazza E facciamo un gran danno a tutti Però Poi sbagliamo Hanno droppato Molto bene Frecce Ah quindi droppano le frecce Come No scintipietra del cuculo Buono Che cos'è E' la prima scintipietra intera Che troviamo Mi sa Scintipietra del cuculo Non sarà mai nella vita Un oggetto chiave Sarà probabilmente Un materiale da creazione Vedenti a me che non guardo mai Che cosa sono gli oggetti Mai Impossibile guardare Eccola qui Questa è la faccia di una scintipietra Dunque Pezzo di scintipietra Intriso di potere magico Una delle finte stregonerie Ah ok Usate dai cavalieri del cuculo Sono quelle che mi lanciavano Oggetto da creazione Scagliato in avanti Consumando PA Genera un dardo magico All'impatto Si si E' esattamente ciò che usano loro C'è un mercante lì Andremo subito a trovarlo Ma non prima di aver fatto Cane Non è vero Eh hai sbagliato tutto cane Mi spiace Approccio errato My friend Ci stiamo avvicinando Eh però Prima vediamo Cosa da vendere Ah non è un mercante No Che dolore Il cuore No Voglio credere Che fossi messo lì apposta Per farti credere Di essere un mercante No Eh cane Sbagliato l'approccio di nuovo Non ci sono più i cani di una volta maestro Cani precisi Che fanno gli approcci giusti No Questi che fanno Il karma ti punirà veramente tanto Si Si C'è un cane gigante tra poco La piuma di falco tempesta Invece la conosciamo bene La piuma del falco Di gran tempesta Allora La direzione che vogliamo intraprendere È questa Quindi Chiambe di spalla Quanto prima rimetterò la culata Mi piaceva troppo di più Qui avrei tirato una culata devastante Tipo Attenzione Che è morto No ho sbagliato tutto Fatto come il cane Ehi bro Elmo da soldato marionetta Se non sbaglio lo avevamo già trovato Dalle primissime marionette Infatti è il secondo Sì apposta Ok ci stiamo avvicinando alle rovine Sono piene di cani O comunque ce n'è uno Ci siamo È il momento di far l'esploro Lì c'è il lago Quindi possiamo risalire così Cerchiamo di Di colpire il cane da dietro Bene così Rovine purificate Lì c'è qualcuno Sono soldati Sì Del cuculo Sì Ehi 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 ragazzoni Sereni e tranquilli Sereni e tranquilli Ho un altro cane Eh niente Ribadisco Non ci sono più i cani di una volta Deboli i canidi Guarda come sbagliano Tutti gli approcci No no Mamma mia Da dimenticare Questi cani Miyazaki Bello Elden Ring Ma Attenzione ai cani Suona suona Sono morti tutti E i cani di Dark Souls 1 Erano una Una dinastia particolare Eh sì Un'altra scintipietra Quindi praticamente Regia Lucaria Potremmo dire che si divide Tra Coloro che non sanno usare la magia Ma la ricevono comunque in dono Attraverso la scintipietra Magie elementari Che vengono addirittura Definite false Stregonerie No? Perché Certo perché non derivano Dall'intelligenza e dallo studio Ma sono artefatti Esattamente Ma allo stesso tempo Comunque Caria Dotava anche Le milizie Non intelligenti Della possibilità Di avere attacchi a distanza Mamma mia Cane come sei scarso Noi però Siamo alla ricerca Non solo di oggetti Come questi Ma anche e soprattutto Di una bella Oh c'è un tizio Uno spirito Un altro con gli occhi cavati Sorggete tutti voi Dalle tenebre del sottosuolo Chi? E lasciate che i nostri occhi Siano offerti alla vergine Eh? È un discorso molto simile A cui faceva L'altro L'altro sì Però perdonami Ho una domanda Vai Che mi farei Se sono Se fossi in blind da solo E lo faccio Ora che sono qui con voi Ah Sorggete tutti voi Dalle tenebre È una frase molto In linea Con chi vive nella morte Però poi si conclude con E lasciate che i nostri occhi Siano offerti alla vergine Beh in questo caso Le tenebre Potrebbero anche essere La cecità Eh? Tu la interpreti così Le tenebre Sai L'oscurità Non è che riguarda molto La non morta In questo caso Non è la darkness Di Dark Souls Non esiste Certo Allora Vediamo un po' Dobbiamo Setacciare Ogni singolo Angolo Eh anche qua Bisogna distruggere tutto Perché potrebbe esserci Una botolì Oh Bravo Bravo E botolina era L'uva Eccola qui Bravo Pronti alla trappola ragazzi? No Mi immaginavo troppo Una trappola Oh Oh Cimelio delle due dita? Cazzo E' uno scherzo Questo è grosso Cimelio delle due dita Un talismano Raffigurante Guarda lì La leggenda delle due dita Infatti ci sono le due dita E tanta gente inginocchiata Aumenta la fede Le dita non parlano Ma queste Furono eloquenti Si contorcevano senza sosta Dettando misteri all'aria Fu così che risalimmo alle parole Le parole della fede Sono probabilmente proprio quelle che si trovano ora All'interno della tavola rotonda Quindi Allora Intanto hai un talismano Che ti aggiunge più 5 a una caratteristica Che non è poco Sì che non è assolutamente male Fede E Guarda bene il talismano che hai Guarda lo sprite Lo vedo Ci sono persone inginocchiate Sì E le due dita Che però Hanno anche le gambine C'è una cosa E' bravissimo Esatto Bravo Questo volevo che tu notassi Quindi le due dita Sono chiamate dita Sono effettivamente dita Però Hanno le gambine Perché assomigliano a delle dita Esatto 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 Ma perché probabilmente Quelle sono le radici Quelle sotto Di questo pensa che Ne parlavo tra l'altro Con Fenrir Sulle radici Guarda un po' No La forma delle due dita È una X È un cromosoma Esatto Sembra un cromosoma La vita Interessante Penso anch'io La prima cosa che mi ha ricordato Sarò ormai Come dire Andato per la tangente Con quest'idea Però La descrizione Non fa che confermare La mia impressione Si contorcevano senza sosta Dettando misteri all'aria Fu così che risalimmo alle parole Le parole della fede Sembra quasi che in realtà Le dita si contorcessero E basta E poi a un certo punto Qualcuno è arrivato e Ho capito raga Ho capito Hanno detto che devi Fustigarti il pene E allora Devi cavarti gli occhi Ah cazzo è vero Però da come la racconta Il narratore Anche questa descrizione Sembra Appunto Prospettare l'idea di Radici che si contorcono E basta E non si capisce perché E poi qualcuno Ha avuto l'idea geniale Di rimettere O meglio Convertire questa danza Arborea in parole D'accordo Però ragazzi Questa è una cosa importante Ora non so quanta importanza Tu gli abbia dato A questa cosa Intendo ovviamente Alle scatole cariane Certo Che chiaramente Rimangono sospese In In aria Scherzi a parte Non so quanta importanza Tu gli abbia dato Ma secondo me Tanta Questo è un trofeo di guerra Caria non è Affiliata alle due dita Manco per il cazzo Quindi In questa sorta Di accampamento militare cariano Avevano Ottenuto Conquistato E messo In cassaforte Un talismano Degli oppositori Delle due dita Quindi C'è stato Un Monopabile conflitto Eh sì Non credo proprio Che fosse qui In segno di rispetto Cazzo gliene frega I cariani Delle due dita Come dicevi bene tu Con l'ordine aureo La strega Selle Non c'entra poco No Ora Queste rovine Le abbiamo viste Ma ce ne sono altre Qui vicino Bravissimo Ti avrei detto Di andarci Non ci fossi andato Da solo adesso Ma figurati Quindi Un punto Che una volta accumulato Si trasformerà In un dono Ma che cosa Cazzo di minchia Del cazzo Del cazzo Di minchia È quello Lascia restare Quelli sono avatar Dell'elden ring Disturba La creatura E perisci Eternamente Maestro So che sono buone Maestro So che So che Joel No Joel Joel Da quanto non mangio E cucino Prima di mangiarlo Un piatto di pesce Povola runa Joel Joel Vai in effetti Ho fame Joel Joel ho bisogno Del nostro Su te Attento Non sottovalutarla Joel non lo farò Ma Ti ricordi Quando mangiavamo La frittura di pesce Joel Sono così buone Sì Ne ho bisogno Ancora Sì Damage output Buono Distruggila Un tronco Bolaraggio In arrivo Lo so Lo so che in arrivo No Che No cosa è Cosa è essere questa cosa Ok Ok Stai bene La runa ti sta anche difendendo Cristo Sta per fare il sexo pazzo Ok No si è reincastrata È una finestra Bello Bello Si mangia Si mangia Ma quante ne fa No Non ti permettere Ce l'hai fatta Oddio 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 Mi ha tirato dello sperma Non credo che facciano dello sperma La pietra del cuculo La pietra del cuculo Grande Nice Appunto che ce l'ho fatto Buono Pav Anzi Joel Si Si mangia Evviva Si È una striscia di carne bianca La stessa che droppi dalle tartarughe di merda Esatto Questa è una cosa importante di Elden Ring Elden Ring lo farà sempre Con Aragoste Orsi Ok bravo ragazzi Ho altra uva da darti Chietta vero? Chietta si Si sono io Pa Certo Ti cucinerò anche dell'ottima Aragosta Ce n'è abbastanza per tutti Sono quelli Dei quali vediamo gli spiriti Ok E quindi Dovremmo cercare altra uva E donargliela Ma non prima di aver scoperto il segretino di questo luogo No è No 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 È lo stesso Sei ancora nelle rovine Purificate Io lo cerco comunque No no certo In alcuni casi Possono esserci coppie C'è anche qui del rovinazium Infatti guarda che c'è un bell'oggettino Non ci sono più i cani di una volta ragazzi Mamma mia Guarda lì Si fanno colpire due vo Mamma mia Che scarsitudine Che scarsitudine La scarsitudine Rimangono Rimangono Visibili O ci devo mettere un segno Segno Ok Assolutamente segno Facciamolo ragazzi Wow Tra l'altro nell'open map Solitamente Portano a fanculo Quindi vediamo Dov'è Reia Locaria? Grande E' qui? Questa è Questa è Reia Locaria Esatto Si Oh mio dio Oh mio dio Quindi all'interno di quelle Mura C'era un portale Che utilizzavano i maghi Per entrare e uscire Da Reia Locaria O i cavalieri O i cavalieri Certo Guarda lì c'è una testa Incendiaria Una bomba I carri di cui lessi La nota del mercante Già Noi intanto Facciamo questo Poi facciamo il siedo Questa strana runa Un livellino Mischiata L'agia cariana Ce la facciamo adesso Con la runa pazza Un livellino si fa E lo facciamo In forza Qui mi fa vedere I miei livelli standard Vero? Non quelli raggiunti Con le rune Come? Perdonami? Qui vedo i miei livelli veri Non quelli che ho Con la runa Quelli veri Per ora forza Perché voglio arrivare A usare la spada di spade A una mano E qui c'è una barriera Adesso faccio Un gioco con i ragazzi A schermo Mappa del ritrovo Faccio una blasfemia Sì Cos'è la mappa del ritrovo? Esatto Mappa abbozzata Ok Rinvenuta su un cadavere Sembra condurre a un ritrovo L'uomo da cui proviene La sta ancora cercando L'unico mezzo per accedere all'accademia Una chiave di scintipietra E quindi Nel ritrovo Troverò la chiave di scintipietra Probabilmente Qualunque cosa sia Qualunque cosa essa sia Ora C'era anche il grafo pugnale Ma di lui Nessuna traccia Qui c'è un albero madre Ma non è lui Credo Perché qui non sembra esserci una grotta Mi sa che il grafo pugnale Non è qui Mi sa che non è qui Che sapremo qualcosa in più Sulle lame nere Perché Amici miei No 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 Beh proviamo a mettere Oddio Però Se lì ci fosse un ingresso Di una cava Potrebbe in realtà Allora Apriamo la mappa Giochiamo un secondo Sai che potrebbe Allora guarda Ci metto un contrassegno Perché se fosse qui E se qui ci fosse L'ingresso di una grotta Magari adesso Non segnalato Questo contorno Torna proprio bene Lo richiama un po' Disegnato da Fia Allora aspetta Se così fosse Ok Se così fosse Sarebbe dentro Quindi easy Ci ho già messo il contrassegno E qui non si entra Perché serve la chiave Esatto E quindi ci conviene Tornare indietro In realtà ora Ma non nel senso A piedi Ci conviene proprio Tornare turbo indietro Qui e continuare l'esplorazione Che ne dici Assolutamente your choice Potremmo prendere questa mappa Ma È da bastardi Prima finiamo l'esplorazione Della mappa Che abbiamo sotto mano Let's go Altrimenti Non va bene Vai Fantastico L'uno è andato Andiamo al tre Che molto probabilmente È un cazzo di nulla E andiamo al tre Passando per queste alturine Ok Bravo That's how it's done Ok Esploriamo Caro il mio maestro Reia Lucaria Grazie A tutti Del supporto ragazzi Siete stupendi Che non sono alturine Ma bassurine Le famose bassurine E sai che lì però Ci potrebbe essere L'ingresso Di una catacomba Mi puzza un po' Di pisellino Andiamo a vedere Lì si scende Sai che A me questa cosa Mi colpisce Mi incuriosisce molto Stai esplorando Come ho fatto io in blind Cioè Nel senso che Lo stesso ordine Sì Anche la testa Nel senso Io sono stato pazzo E Sono stato un po' più lento Ma perché avevo tutto il tempo Del mondo Tu stai invece Comunque ti prendi tutto il tuo tempo Ma Anche io Ho circunnavigato il lago Vedi Ma perché il lago E si sono tutti incazzati No Perché Eh ma Eh sì Perché tu hai la torta al centro E vai a cercare Appunto Lo zucchero E lo so Anch'io la penso così Però Bisogna Questo è i preliminari Esatto Però abbiamo trovato un bocciolo Amici eh Attenzione Bocciolo cristallino Le abbiamo viste Se non sbaglio Queste piante Proprio nel lago Piantina cristallizzatasi Prima di raggiungere La maturazione Materiale per la creazione di oggetti Facile da reperire Infatti Nei pressi del lago di Liurnia Lago di Liurnia Quindi ha anche l'acqua Di Liurnia In realtà Che cazzo è? Oh no Di nuovo voi? Di nuovo voi Eh sì Sono quelli del dracotumulo Sì Quindi direi che non sono Come dire Esatto I masnadieri A quanto sappia Masnadiere È un sinonimo Di brigante Sì Bravissimo Ha fatto tipo Una piruetta assurda Per non fare un cazzo Di niente Un grande Però ci potrebbe essere Qualcosina Qui Stiamo attenti Allora Questa è l'entrata Però un oggettino Non sembrerebbe Però stiamo attenti Che qui Miyazaki Ce la nasconde La chicchetta Tanto c'è un altro Bocciuolo Eh vuole fa Il masnato Vuole fa Eh eh Caro Il mio amico Non si masnata Un cazzo La Mazda Not Not Grazie creepy Del ride Benvenuti ragazzi Stiamo giocando Elden Ring Stiamo esplorando Liurnia Perché sono Nella direzione opposta Beh sì In realtà è giusto Qui cosa si fa? Si sale Beh allora guardiamo dopo Dai E qui c'è una catacomba E qui c'è Qui c'è una catacomba Oh si è messo a piovere Devo togliermi L'armatura di metallo No prendo la scossa Ah C'è qualcuno su una sedia L'ennesimo pazzo Che osserva il panorama L'ennesimo nobile Gregone Oh una pietra Da forgiatura funerea Niente di esaltante Ma It's honest work Dai facciamo un po' di muro muro Magari con la torcia Assolutamente Facciamo muro muro Però partendo dall'inizio Questo mi puzza proprio Di catacombe E mo si Mi metto Più che la torcia Attivo proprio La lanterna dei palle Max Secondo me Un ingressino pazzo c'è Qui niente E infatti lo sapevo Me lo aspettavo ragazzi Ma perché A sepolcri Dele hanno già messe qui Le hanno già messe In situazioni simili Su questi strapiombi Che non ti caghi E che invece Se vuoi Joel C'è Di sabbia E di argilla La punta mi brilla Eccomi qua Mi avvio Fatti trovare Ah guarda Sono attaccato Alla grazia Dovresti Trovarmi Non ti vedo Fammi vedere Se ho messo La password Giusta No E ho messo La password Sbagliata Aspetta Oh no Adesso tolgo Il segno E lo rimetto Ok Sì Stavo controllando Di giù Eccolo Eh ma io ho sbagliato Ok Non sembrerebbero Eserci piani intermedi Ragazzi Bravo Vedete Non ci sono Eccoci Puff E vai Una catacomba Di Liurnia Let's go È la prima Sì Nice Ok Non c'è un piano inferiore Ehi Oh Stealth No 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 Tieni Oh È per te Cassandro Oh grazie Oh Coppa di tartaruga Buono Joel Joel Sono qui Siamo stati in fase Joel è quell'uomo È tortisiana È leggenda Joel Joel Ci ha cavato un occhio Quello Hai una Grande runa Alza di pav Va bene Oddio è leggendario C'è un gesto Uno a cui L'ho visto fare mille volte Aspetta Dobbiamo mandargli un messaggio Sta fenicotterando Facciamogli vedere il potere del lag Sfrontato E adesso creiamo un'arena interessante Sì Pav Cos'è tortisiano Hai paura Noi siamo sbloombiani Stiamo qui Ci nascondiamo Coraggio Non approcciamo noi Abbiamo paura Siamo sbloombiani Lagghiamo Non sappiamo bene Cosa facciamo Dovrei essere tu Ad avvicinarti Oh Sanguinamento Tipico tortisiano Le sciabole sono potentissime Sì Non dobbiamo farci toccare Ha fatto una scelta coraggiosa Gira intorno alla nostra unica soluzione E buttarlo di sotto Buon'idea ma mi serve tempo Guardalo Le prova tutte Vuole attirarci verso le sue dual Come tutti i tortisiani Chi fosi Perdono tempo con le meretrici È il momento di mettere un po' di Ah l'ho preso Il mio incantesimo è ampio come una galleria Coprimi Joel Sì Scondermi Oh mi ha visto Ah l'ho preso Sì Non deve curarsi Andiamo Attacchiamo Sì Joel Ti begga laggando Ti begga laggando il tortisiano Sì 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 Tutto Anche l'eleganza Di Joel secondo Si perde Dinanzi alla sconfitta Di Cassandro Abbiamo battuto Il leggendario guerriero Tagghiamo Il ping sale al massimo Mi inturci di scema in ritardo È bellissimo Anzi Prendono persino Forma RGB Wow Ho anche droppato il falcetto biforcuto Dai In questo momento magico O ne ho due niente Beh dual Dual falcetti Ecco Ti smette Appetta 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 Ecco il premio doppio Ricordati Elden Ring Ha una chicca Molto bella Di avanzamento Quality of life Hai due falcetti Prova a metterne uno Nella sinistra E uno dalla destra Ok E poi Premi L1 Più volte Combo uniche Move set dual Esatto Vale solo se metti due armi uguali? No Due armi della stessa categoria Qualunque coppia di armi Della stessa categoria Questa cosa è una figata Lo è Questa cosa è una vera figata Ah tra l'altro devo fare una roba Mi sono scordato Aspetta un secondo Ah però non posso perché ci sei tu Dovevo mettere il Perry della tempesta Ah next time Next time infatti Quindi puoi provare a fare due l'asce per esempio Già Però cazzo sei da tortisiani Beh Armi ultra pesante chissà No è vero hai ragione Loro sono Dex E I pezzi di cazzo Fili bustieri Sempre a guardarsi i piedi E' quello degli altri Certo E ti hanno male eh Se ti colpiscono Ti aprono come una cozza Fermo fermo C'è qualcosa Non capisco Ok è una statua Aspetta Devo minopolare E' la statua Si ma dietro c'è qualcosa Che si muove di molto grande Lo vedi? E' come l'alpare E' un guardiano con i martelli Vero? No neanche E' proprio un Margit Io Prendo la sua attenzione Mi hai fatto bene Wow Joel sei fortissimo Si anche io ho un arco Joel Lo so Fa solo 44 ps di danno Ma ne hai trovato uno Più adatto a te Eh ma non ho le Ah oddio In realtà Non ho abbastanza Forse con La runa si Oh Forse con la runa Oh mio dio Joel Potere runico Guarda come lo sollevi Come niente fosse Potere Runico Godric modo Boom Ancora Ok Ancora Distruggiamolo Si Le mie frecce E quelle magiche del maestro Joel Bravissimo Joel No dove vai E sta arrivando Tempo del corpo a corpo Stai attento Oh oh La pesa mortale Ti libero io Joel Sto bene Ti libero io Non preoccuparti Mi preoccupo tantissimo Si è un cretino Ok Attacco in salto R1 pazzo Yes Un presagio anche qui Uno eh Interessante Dove sei? Joel tutto a posto? Più o meno Sento il rumore della colluttatio C'è una colluttatio Piuttosto Arriverò con molta calma Taro troppe Ok Ci sono altre due Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio No sciocco Non dovevi venire qui La colluttazione Ti salvo io Joel E' pieno di stronzi Aspetta Non preoccuparti E' fatta Uno è morto Stai molto attento C'è anche un Un demonetto Non preoccupare L'ho ucciso adesso Si Grande Adesso Potere dei pavidi Dov'è? Dov'è l'altro? Dov'è andato? E' qui E' qui E' qui Oh oh Distroilo Distroilo Provo ad addormentarlo Oh Frecce pazze Grande Frecce pazze di nuovo Oh no Ottima idea Prendergli l'agro così Oh Bravissimo Ottimo Vado con l'R2 caricato Si Le nostre combo Sono incredibili Oh yeah Oh Pacco in salto Grande Ma come ne siamo usciti Puff Abbiamo sinergizzato in maniera incredibile Grande E' stato grandioso Che fai ficata Osso di bestia pesante Se solo avessi Un ricettario del cazzo Li droppa tutti i radan Oh Testa parlante Magnifico Credo sia inutile leggerla Perché Dirà sempre la solita roba Però dimmi se mi Cosa E' una pietra riscaldata Fa caldo E ci si cura Ah Nice Molto bene Ehi aspetta Aspetta Fermo Tieni Va di carne pregiata Oh Questa è preziosa E' la cucinata sul momento Grazie al caldo della pietra Questa è Il maestro ti ricorda anche di usarla nei fight Perché Ti baffa l'attacco di un botto Sì Ok Ok andiamo avanti Attento Andiamo a destra Non è vero Andiamo a sinistra Non c'è un cazzo Ci sono delle trappole Fermo fermo Esatto Esatto Guarda dove metti i piedi I tortisiani Ci tauntavano Eccolo lì Ma dicevano il giusto Joel Joel Mettiti qua Mettiti qua Esatto Vai Attiva la trappola Trappole cariane Di nuovo Sì sì Vai Non ancora Ancora Oh Bene bene Adesso non attiviamola di nuovo Ehi ehi Aspetta aspetta Questa è una cosa importante Sì Le trappole sono cariane qui Esatto Utilizano frecce magiche Ma questo significa che almeno un tempo L'ordine aureo aveva Sotto di sé Caria Nonostante Fosse eretica Bravo La arte delle stelle Perché qui caria Ha servito l'ordine aureo Per mettere in sicurezza Le catacombe Bravissimo Sei d'accordo? D'accordissimo D'accordissimo Così si fa Così si spiega Oggi non più ormai Perché l'ordine aureo è caduto E figurati caria Avrà odiato l'ordine aureo Anche e soprattutto Mentre era sotto di lui Però Vai piano potrebbero essercene altri in agguato Piccoli demonietti Che si calano dalle fottute pareti Sempre figo dire fottute pareti Attento attento che ti fanno il Super Mario World 1 Stai molto attento Wow Si leggeva Le risate Forse veramente Guarda Guarda come si vede Che è una catacomba macariana Vero Con i libri Qui qualcuno Studiava Qui qualcuno faceva Della studiazium Ceneri di paggio Aspetta Fammi Leggere Ceneri in cui ancora albergano gli spiriti Spirito di un paggio Che accompagnava il nobile Di cui era al servizio Difende il suo signore Con una spada perforante E una balestra Si diventa paggio Come conseguenza Dei propri umili natali Ok Quindi si eredita praticamente Non sono richiesti né talento Né capacità Né volontà Quindi è altamente probabile Che qui ci fosse un nobile A studiare Eh Perché i nobili Ce li hanno raccontati come stregoni Quindi qui lavorava il nobile Praticamente Si portava la bagnotta A casa Si Ehi Ehi Ok tira la leva Ci siamo Vai Sento puzza di boss fight In vero La tua presenza Oh oh Trappola via Oddio Cavola Non bisogna mai essere impulsivi No Dicevo La tua presenza Mi fa sentire Puzza di boss fight Riciclata Ma Daremo a vedere A proposito Di riciclo Fammi usare una pietra riscaldante C'è una nebbia lì perché Andiamo a vedere Ma una nebbia non Normale Credo sia dovuta al multiplayer No Quelle dei multiplayer Sono più dense Ok E imparerai a riconoscere Quelle nebbie Già la conosci in realtà Ma lui è morto No Non è morto Ahia Sta solo dormendo Ok bro Al mio 3 Tiriamo una botta assurda 3 Oh Nice Abbiamo distrutto Luna scarlata Siamo stati invasi dalla luna scarlata Non credo che sia un giocatore E invece mi sa di sì Sai Sì? Che bel nome allora È vero Molto molto Canonico Oh cazzo Backstab time I wish Dai Vado a prenderla Ho droppato un'ascia deformata maestro Che figata Dopo la leggiamo Adesso il momento è un po' concitato Dobbiamo capire dov'è la luna scarlata E sì Qui ci vuole semplicemente una spada Che fortunatamente ho E vedo anche un demonietto sospeso nell'aria Non credo sia voluto quello Non credo neanche io Mi sa che il multiplayer un po' spacca le cose Cosa? Vabbè ragazzi Vabbè Vabbè Ricordatemi di leggere queste due cose Elmo specchiato da Nox E Nox tra l'altro Non è qualcosa che conosciamo Vero? No Nox E poi L'ascia deformata Però prima c'è l'invasore Farti notare anche che il corpo è bruciato Te l'ho detto la prima cosa Ah ok 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 grazie Era bruciato Ho un altro oggetto qui Una saetta runica e si gode Nice Questo però era solo un servo Non era certo un nobile Guarda quanti libri Quindi diciamo che poi La catacomba cambia In arredamento Di terra in terra Eccola la luna scarlata Prossima mossa Cazzo Ha del sangue Stai attento Eh zii eh Uccidilo in fretta Il sanguinamento Questa è un'arma Abbastanza cattiva Da giocare Ha dei fiori Ah bel roleplay cazzo Ciao Bello grande Bel roleplay Bello roleplay Fico 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 Era un servitore del dio del sangue Bravissimo 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 Esatto Mamma mia oggi ragazzi con le invasioni Siete andati in full 7% Utilizzo del cervello Fighissime Bello 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 Si Fighissime Bene Joel Che cosa faccio Vai Segui Ricordati di leggere la Sì sì Le cose che hai trovato Sono preziosissime Bene Leggino sia Allora La prima cosa Il drop di culo Lascia deformata Ascia deformata Eccola qua Quanto è? 24 forza Grande ascia A doppio taglio Che sembra aver subito Un processo di fusione La forza brutta È il solo requisito necessario A brandire quest'arma Piagata ovunque Dai segni delle battaglie passate Grido di guerra Galvanizzati con un grido Bellicoso Incrementando la potenza d'attacco Finché attiva Gli attacchi potenti Diventano attacchi in carica Sono stati utilizzati Per combattere i draghi Questi cosi Si parla di fusione Quindi ha incontrato Il fuoco Lascia il calore Questi esseri Questi presagi Potrebbero aver combattuto Degli sputafuoco I cavalieri Che hanno sacrificato I draghi E hanno affrontato La comunione draconica Ci sono tante opzioni Possibili Ma è abbastanza probabile Che questi esseri Con le corna Questi appunto Presagi Come li chiamo io Ma insomma Credo che lo siano In generale Queste chimere Mezzi uomini Mezzi esseri cornuti Sono stati utilizzati Per combattere Per combattere Credo i draghi O comunque dei nemici Che sputavano fuoco Inoltre Inoltre questa Questa location Ci racconta Che anche loro Erano sotto l'ordine aureo E voi mi direte Ma non lo sapevate? Già no Perché abbiamo visto L'unico di loro Precedentemente Sotto Godric Ma Godric Non è ordine aureo Eh Esatto Però dubito fortemente Che questi siano predatori Che siano venuti qui Per rubare qualcosa Questi non capiscono Un cazzo Secondo me Accidenti a me Non ci sono più Gargogli una volta ragazzi Questo è il fatto Guarda lì Ti sorprendono più No no Assurdo Una falce Da leggere Con immediatezza Grossa falce Dalla lama lunga E affusolata Pensata per la mietitura Infligge velocemente Sanguinamento E può eludere La guardia dei nemici Nelle mani di una persona Adottata di grande destrezza Può incutere terrore In qualsiasi avversario Se ti chiami Fride poi Taglio rotante Abilità prediletta Dei guerrieri più abili Far rodeare il corpo Infliggendo fendenti al nemico Premi di nuovo Per eseguire Nulla in realtà Di entusiasming Possiamo scendere Dovremmo aver visto tutto Qui ci sono stato Ma sono stupido Vedo dove siamo venuti Dovremmo averlo visto tutto Questo luogo Pazzo Hai trovato un sacco di oggetti unici Qui ci siamo stati Abbiamo fatto tutto È il momento di boss È ora di boss Col cazzo C'è una cosa Molto 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 importante Che dovrei leggere Se te lo ricordo Io se non lo fai Nox Lo leggo Corretto Corretto Troppi oggetti Messi da parte È una roba strana Prima ancora di leggerla Sembra punitiva In realtà Questa armatura Ma non credo che lo sia Si tratta di cristalli Elmo specchiato Quindi sì Di vetri Da Nox Elmo Nox mi ricorda L'inizio della città eterna Fatte vere or nox Com'è che si chiamava? Perdonami No 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 Kron Elmo dalla foggia Di uno specchio di cristallo Uno degli strumenti magici A posto della città eterna Facilmente fratturabile Da attacchi fisici Anche perché Nox è notte Quindi Nox è notte E lì c'è la notte eterna Esatto Si chiamava però Anche falsa notte Com'è che veniva chiamata? Sì Facilmente fratturabile Da attacchi fisici Protegge dall'intervento Della volontà superiore Ma cosa stai dicendo? Capito? Esatto Protegge dall'intervento Della volontà superiore Delle dita al suo servizio Pertanto è l'ideale Per chi stia covando In seno un tradimento Non male eh? Quindi la volontà superiore Può obbligarti A fare qualcosa No è più probabile Che possa sondare Nella tua mente Esatto Probabilmente fa Mind reading Ma se tu hai questo elmo Non ti può entrare in testa E quindi la volontà superiore Comunque ha dei limiti Davanti a poteri del genere Le stelle sono più limitanti Di quanto si possa pensare Ma era bruciato questo corpo Quindi infine il traditore Era stato scovato E punito Eh purtroppo si Però qualcuno Covava un tradimento Ok ti lascia comunque Gli occhi scoperti Lo volevo vedere Fa anche un bel effetto Si Perché chiaramente Vedete specchia tutto Interessante Molto interessante Un tradimento Quindi Forse la congiura Per la caduta dei semi dèi È partita anche Dalla città eterna Ma non è rimasto niente Nella città eterna O forse oggi Non è rimasto niente Tempo c'era qualcosa Tempo di butto Era qua il boss Ah no Qui Eccolo Riciclopoli Let's find out Un gatto Però Un po' diverso Con una staffa Si Esatto Stavolta Infatti è cariano Sto gatto Esatto Un'unione Gli faccio un po' male Anche lui Al Al Ah fanculo Fanculo 2 Ma crepa Ceneri di mercenario Di Kaiden Sembrano I tizi a cavallo Bravo Esatto Infatti lo sono Ceneri in cui Ancora bla 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 Spirito di un soldato Di ventura Di un popolo Di cavallerizi Oh finalmente Ce li raccontano Brandisce con maestria Un'arma progettata Per disarcionare Gli avversari E lancia grida Di guerra Per incrementare La sua già Considerevole forza I mercenari di Kaiden Hanno dimostrato Il proprio valore Su innumerevoli Campi di battaglia Saranno stati assoldati Anche durante La guerra Dello shattering Che dici Da qualcuno Anche perché In teoria Sono stati assoldati Dai Leindel Ed è per questo Che hanno il diritto Di essere sepolti Qui E poi in parte Erano anche a Sepolcride Quindi anche Godric Ne aveva qualcuno No? Ti trovi lì Per la prima volta Se è fatto giorno E lì vedo un castello Ma è qua Ah è quel solito Cazzo di Castello inaccessibile Dove c'è il tizio Disperato Sì Guarda E intanto Joel ha mangiato La carne pregiata Per fare il boss Sono contento Joel Che ti sia piaciuto Ma che cazzo E sono tornati I magnacosi I magnacosi Eh ma è proprio Masnadopoli qui Oh Corazza da Masnadiere E Sega da Masnadiere Va bene Va bene Sidonia Content creator Un'arma composta Da una lama Seghettata E una lunga impugnatura Utilizzata dai Masnadieri La sua lama Causa sanguinamento Con molta efficienza Si dice che la sega Venga usata Per tagliare i corpi Da dare impasto Ai soldati Az Ma non ci sono Testimonianze dirette Di questo terribile atto Tagli rotante Abilità prediletta Dai guerrieri più abili Ah questa la conosciamo già E poi abbiamo la corazza Da masnadiere Per non farci mancare nulla La corazina Masnadica Dov'è? Ah ma ce l'avevo già Niente Una masnadica sega Ogni tanto Mi è capitato di farla Un po' da brigante Dai dai Mi manca Mi manca l'elmo Dai ragazzi Dai vi pago Dai manca l'elmo Dai Dai l'elmo Dai dai Tu ce l'hai Tu droppi l'elmo No Vaffanculo Ti avrei pagato Invece hai perso Tutti questi soldi Che bislacco Ok Back to square one Eravamo diretti Verso Ah Me l'avrebbe mostrata lui La catacomba Esatto Tra l'altro lui ha una faccia Molto simile alle leggi dita Comunque si come immaginavo È semplicemente una Rovina caduta dal cielo Però Andiamoci sopra Magari ci sono degli oggettini pazzi Ah lì invece c'è una bella torre Quindi ho fatto bene A metterci il segno Vabbè piano piano Ah lupopoli Mi fate scendere? Cioè non vale così No non mi fanno scendere Vabbè Battaglia a cavallo Dai 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 Io c'ho uno spirito ancestrale Voi non mi sembrate Ancestrali per niente Mi sono tutto il cazzo Il cavallo Dai Come i veri uomini Attacca E dai Attacca per bene Non ci sono più lupi di una volta Eh mamma mia Chifoso Cosa sta facendo quell'altro? Lupi di qualità infima amici Sangue animale Ok Andiamo qua Verso la torre Andiamo proprio Verso la torre amici Quindi scendi Sì Ok Perfetto Eh sì perché Salire qui Beh sì qua è un bivio Puoi salire o scendere Sarebbe carino di notte Guarda che figa l'ombra di Pavli La vedi? Sì Esatto posso salire Che bella che è Posso salire ancora e vado verso il bosco Oppure posso scendere Cos'è quello? Cosa cazzo è? È uno di quei carri Ma è rotto Esatto Andiamo lì Basta Qui abbiamo l'ambiente Che sta per raccontarci Una storia Eh sì Ma snadica la situa Andiamo Cosa cazzo? C'è una guerra in atto Ma queste sono evocazioni Qualcuno che vive nella morte Ha cominciato a combattere Contro qualcun altro Mi è chiaro I soldati Da che parte stanno Vediamo un po' Esatto Qui hai un certo scontro Ok no I soldati Cariani Stanno combattendo Contro dei Tizi blu Che però sembrano In realtà Pieni di polvere Di stelle Guardano anche gli occhi Proprio blu Non ha molto Questo è quasi Un reenactment Cioè Stai vivendo un eco A causa Della vuotezza mentale Di questi Guerrieri Che continuano a combattere Una guerra già finita Sì però Perché combattevano Contro altri nobili Cioè Non dovrebbero essere Dalla stessa parte Utilizzano Lo vedi Magie cariane Eh appunto Renala è impazzita Ha cominciato ad attaccare I suoi stessi soldati Hai notato Cosa è al passo di là Un troll Sì l'ho visto Con l'elmo Tra l'altro È un troll Equipaggiato Equipaggiato Già E non solo Lo vedi con cosa Equipaggiato Con l'elmo Del cavaliere D'inizio gioco È un elmo cariano Quello Lo hai notato Assolutamente sì Hai riconosciuto L'elmo del CNT Sì Quello è l'elmo cariano Quindi che vuol dire I soldati del cuculo Hanno cominciato a combattere Contro I soldati di Caria Ma non sono la stessa cosa In teoria Eh Che non sia così Eh Potrebbe anche essere Allora Ora mi rileggerò La descrizione Dei cazzi Dicevo Mi rileggerò La descrizione Dei Cuculi Yes Porgi qui il tuo grugno cariano Ah poi guardano gli occhi blu Quindi è come se fossero Veramente comandati Dalla scintipietra Beh alla fine Allora posso farti Una domanda provocatoria Vai Ti pare normale Che un troll sia così intelligente? Ok Sono molto d'accordo Cioè i troll sono stupidi Bravissimo Sono controllati Cioè qua Anzi ti direi di più Il loro colore È quasi da evocazione Esatto La prima cosa che ti ho detto È Sembrano delle evocazioni Eh Sono controllati Da qualcos'altro Quindi cose su Allora Rileggiamo un attimo Gli amici del cuculo Eh sono soldati di Reia Lucaria E quindi c'è qualcosa di strano C'è qualcosa C'è qualcosa che non va I soldati di Reia Lucaria Combattono contro Evocazioni di Reia Lucaria? Allora c'è una parte Degli stregoni Che si è rivoltata contro Eh mi sa che è successo Un casino Mi sa che è successo Un gran casino Che sia magari un Oh guarda Forse team marionette Versus team non marionette C'è qualcosa che è successo Guarda queste marionette Tra l'altro Sono belle antiche Sono di ferro Cattivissime Grosse Cioè è stata Tra l'altro guarda Questi carri Quanto sono stati distrutti Cioè è stata Una battaglia violentissima E sappiamo che sono i carri Di Reia Lucaria questi Tra l'altro Sì Quindi ci sono degli stregoni Ci sono chiaramente Due fazioni Bisogna capire Quali sono E perché E da che parte Sta Renala In teoria Dalla parte Di Reia Lucaria A meno che Renala non si è impazzita Alcuni stregoni Allora dopo Il tradimento di Radagon Le si siano rivoltati contro Ahia Perché ha perso il senno Non è una cattiva idea Chissà Guarda un po' È fatta all'interno Credo sia tutta meccanica Quindi Anche ingegneri Sti ragazzoni Queste rovine Già le conosciamo Ma la torre no Bellissima Questa ambientazione Mi sta piacendo un casino Bello Ti fa capire L'open world Di Elden Ring Come funziona E lui ti sta comunque Raccontando qualcosa Mentre esplori Beh in maniera Piuttosto concreta Peraltro Peraltro Guarda Che sia il tizio Della torre Sappiamo che Nella torre Spesso si nascondevano Maghi Forse il tipo Sulla torre A un certo punto Ha cominciato A attaccare i soldati Però no Che cosa Cosa hanno cercato Di prendere la torre Con i carri Non lo so Sembra un conflitto Più grande Di Siamo contro Un tale Sì Sembra una cosa Un po' più grave Loro Danno anime Tutto mi aspettavo Forché Cosa Oh Tu sei viva E allora Forse sei tu Che le stai evocando Ste robe Sai Forse non avevo Tutti i torti Lo vediamo subito Non le ammazzerò Quelle Sì Non le ammazzerò Quelle Strada maestra Ci sarà un teleport Forse un tempo Portava al ponte principale Quindi sai Può essere Vediamo Vediamo se con la morte sua Anche le vocazioni Vanno a fare in culo Ah Non è una lei Ma un lui Bro Guardalo con questi elmo Con questo elmo E? Vediamo No Sono ancora in prima Rimangono lì Non è L'evocatore A meno che non siano persistenti Bastone Della scintilama cariana Bastone Della scintilama Ho un'idea Ma devo rileggere Delle descrizioni Ok? Ma certo Bastone con incastonato Nascintipietra blu Uno dei due tipi Di bastione cariano Ah C'erano pure due tipi Quindi attenzione Conferito ai cavalieri stregoni Potenzia le stregonerie Della scintilama Conferito ai cavalieri stregoni Ma c'erano altri tipi Di cavalieri E c'erano altri tipi Di stregoni Ecco qua Stregoneria notturna Di Sellia Città della stregoneria E guarda anche il blu E' diverso Da 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 Raya Lucaria E allora vedi Sono stregoni Contro Raya Lucaria E' la cosa più sensata Guarda il blu Ci sono due storie Si Di questa scheggia E' lo stesso blu Dell'evocazione Solo che ovviamente Essendo stregoni Possono utilizzare anche Le stregonerie di Raya Lucaria E le usano infatti Ma in verità Sellia E' andata contro Raya Lucaria Quindi abbiamo Sellia Da una parte E Raya Lucaria Dall'altra Gli stregoni di Sellia Erano degli assassini E spesso vedi Davano la caccia Ai loro stessi compagni Sono abbastanza convinto Maestro Di quello che dico Oh Stai facendo Delle belle discussioni Avrai sicuramente Più informazioni In futuro Ci saranno Se c'è una cosa Che ti posso dire Dopo aver finito Elden Ring Che a differenza Di quasi tutti Gli altri Souls Specialmente Quando mancava Una certa Cultura dietro Il lavoro di From E come venivano Narrate queste storie Quando mi trovavo Dinanzi a delle boss Fight O a dei luoghi E con il modo In cui giochiamo Comunque in cui affronto I Souls E così via Sapevo che cos'era E questa cosa cambia tutto E' stato incredibile Appunti sulle tecniche Di creazione Lasciati da un artigiano Della scintipietra Al servizio dell'accademia Contengono informazioni Sulle cosiddette Finte stregonerie Cioè le pietre Che usano i soldati Illustrano come creare Il vaso Albinao Minchia ma sono le due Ma quando è il successo? Cavolo si Ok allora Whenever you want Va bene Il finale eh Quando vuoi eh Se poi vuoi alle tre Nel senso Che ci deve fare Beh ti dirò Vorrei Averti Con ancora Un briciolo Di freschezza Quindi Potrei portartici Perché vedi Ti sto per fare Un regalo Guarda Non è un regalo Perché lo trovi Non è una cosa segreta E' un'anticipazione Che dopo due settimane Ti farà capire Che cos'è La narrazione Di Elden Ring Comunque quindi Sono gli stregoni Di Sellia In verità Fare le marionette Mi sa Non regalo Caria Quelli che troviamo In giro Sono appunto Cazza Beboli Fatti Tra l'altro Sellia Sell Cristo No Cazzo Una setta runica Così fa malissimo È stata Una cosa Dolorosissima Dolorosissima Da vedere In momenti come questo Voi che avete giocato A Elden Ring Cosa avete pensato Di Gesù Bambino Quali sono stati I vostri pensieri Allora Però Compensiamo Ti dico dove mettere Il pointer Un attimo Che riprendo Le anime Sì Le rune Volevo dire Però se ti faccio Ti faccio mettere Il pointer Devi andare Solo lì Va bene Va bene No no Certo Certo Ma anche Sì sì Anche perché Più che altro Non è sabato Domani E quindi Voglio mandare Anche i ragazzi A letto A un'ora decente È giusto È giusto Faccio il papà Saidonie Faccio venire Il più poturgido Allo maestro Li chiamo Echi Vado a riprendere Gli Echi Anche se non lo so Nulla di Bloodborne Non sai nulla Di Bloodborne Ma un giorno saprò Oh se saprò Oh è quella Sarà una veteran run Quanto l'hai finito A fondo Blabbo Tanto Tanto L'ho scoppiato Ma non è il tuo From Software Preferito E Allora Bloodborne Mi fa male Dirti questo Quello che stiamo facendo Perché significa Farti star Con un blocco Praticamente Coitistico Ma è Al di là Della quantità Eccetera Al di là di altre cose Il capolavoro Quindi È il capolavoro Ora che l'hai finito Anche dopo Elden Ring La pensi così? Non ti posso rispondere Perché Se ti dicessi Di sì o di no Influenceresti Influenceresti La tua run E il tuo giudizio Ti sto rispondendo In modo fuori dal tempo Mi dispiace Va bene Va bene Va bene Quindi come se tu Non avessi giocato Elden Ring Esattamente Allora avanzo qui O vuoi mettermi Un pointer diverso? Un pointer diverso Va bene Allora guidami Oh un drop Apri la mappa Oh buono Uno scudo di ottone Aspetta un attimo Minchia Questo è rotto Sì? È forte? Ferria bene? No No Come tutti gli scudi medi Una merda Scudo tra i più grandi Di taglia media Rivestito in ottone Di uso comune Ai tempi della disgregazione Quindi ci sta dicendo Che temporalmente Sta battaglia È avvenuta Allora Disgreg Preparati a torrentare Verso un obiettivo Va bene Apri la mappa No no Lo zoom va bene Anche abbastanza ampio Cioè abbastanza da vicino Zoom 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 Giù Giù Ok Sali verso nord Finché non ti dico basta 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 Sinistra No Vietato Vai Time to go Pav Anzi Fra Ok Sono parole forti queste maestro Sì 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 Vado dritto per il sentiero Credimi Non devo venire andare giù Vai dritto come preferisci Ti posso dire questo Non le userò spesso queste parole Quindi Fatti venire tutti i brividi necessari Va bene Saranno molto rare queste parole Francesco Molto rare Anche la distinzione Saidonia Francesco è importante No infatti infatti Appena ho sentito Francesco Che mi sono triggerato Bravissimo Mi piace Quella sembra una chiesa Ragazzi Ragazzi Vero Alla faccia di una chiesa Sembra la planimetria Di una chiesa Sempre più bravo Potrei sbagliarmi però Sempre più bravo Go Sentiamo Sento puzzo di Michela Puzzo di palle di Michela Andiamo Io ho sentito Il puzzo di Michela A ogni edificio del gioco Per 150 ore Non ti preoccupare Che bello Facciamo 120 110 ore Anche lui potrebbe essere Un boss finale In realtà Eh Così La spada di Michela Dopotutto è malenia Non guardare Non guardare C'è un altro marinaio Non lo guardare Non lo guardare Non guardare Non si Vietato Vietato Ma donna quanto è importante Non avere lasciato Non hai idea Vai Ciao ragazzi Siete nel nostro cuore Assolutamente Cosa cazzo è lui? Non Vietato anche lui? È tutto vietato Ok Vabbè dai Uccidilo dai Concesso vai Evviva Evviva Non è vietato E vai Perché quello Quello è speciale Il maestro ti dice Che è speciale Puoi ucciderlo Ok ok È unico È speciale e forte E sei infattolo Perché cazzo sono Eh infatti No Please Don't do this to me Ma certo È forte questo Non so fare perre Con sto scudo Arriveranno Ma con questo scudo Sì posso capire Che è un po' D'anticipo Oh bello resiliente È il ragazzo È speciale Per questo Te l'ho concesso Madonna che male che fa Forse non avrei dovuto usarlo Come Perry Boy È del super ordine aureo Guardagli il mantello E usa il fulmine Come arma Crepa Bastardo Oh breviario Breviario del culto draconico Breviario del culto Del drago antico Della capitale Ma certo Testo sacro Testo sacro della religione Sorta tra i cavalieri Dopo la guerra Dei draghi antichi Momento nel quale Immagino li abbiano conquistati Se consegnato A un chierico erudito Permette di apprendere I seguenti incantesimi Lancia folgorante Fulmine perforante Armamento elettrificato Quindi In realtà C'è un culto Dei draghi antichi Eh però aspetta Se fai la comunione draconica Sputi fuoco Ma col culto Dei draghi antichi Un po' fondendo La figura Di guine Delle sue vittime In realtà Spari fulmini Ora che ci penso C'era un drago Che sparava fulmini Con le zampe Nel trailer Nel trailer Nel trailer Per ora distaccati Dai draghi antichi Sono zeussosi Sparano fulmini Grazie Ignoro Tutto Tutto Mio dio Vedo cose Vado via Eh quello è un quadro Via 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 No no Mi sono scordato tutto ragazzi Perché se usi la grazia Poi ti perdi L'esplorazione sincera Prima È un casino Go No ragazzi Che è successo Alla telecamera Che è successo No ragazzi Sono buio Oh no Forse Forse ho fatto il pesto O forse fa caldo E la telecamera ha detto Fuck L'ascita Prova un po' A far spruzzicare La Ah no ma ci sono Ciao ragazzi Allora no Sì sicuramente Si è surriscaldata È vero Fa un caldo porco Eh sì Dai che bacca poco resiste Una testa Ma non Vedo niente Quello è un carro Non ne guarderò Il funzionamento Si può Maestro ha detto di no Credimi Maestro ha detto no È uno scambio Che apprezzerai Sei seduto Sei tranquillo Se fossi in piedi Probabilmente avresti dovuto Sederti Sì Ho voluto Eh sì No no Dovuto Probabilmente sì Adesso mi solletico il mentino Con il pisellino È una di quelle cose In cui non posso esimermi Dal crearti quanto più Hai possibile Senza edulcorare nulla La leggo Cosa La spada C'è una spada Ah sì Puoi leggerla È concesso Dopo oggi Fa parte del regalo La seconda guerra Di Liurnia Nessuna vittoria Né per gli aurei Né per la luna Beh immaginavo L'espiazione Come unico bottino Un voto Da mantenere Quindi Durante Lo shattering Credo O forse addirittura Prima Ci sono state due guerri A Liurnia Esatto Sì Non c'è stata né vittoria Per gli aurei Né per la luna Beh oddio Visto che ci sono gli aurei Dovrei dire che È prima dello shattering Perché se no Gli aurei Non ha senso Come fazione Dopo lo shattering Gli aurei Non esistono più L'ordine aureo Cade Beh Sì Però Magari Magari comunque Morgoth Continua a rappresentarli Ok Gli potrebbe essere Sì Smetto di parlare Ok Goditi Goditi tutta l'aspettativa Che ti ho creato Perché non verrà delusa Immagino che ci sia La nostra amica Verrà Delusa Sì Pronto Sì Io lo so Una statua Che non conosco Credo Me la binocolo Prima da lontano Sì Non la conosco La testa è a punta Sembra Sembra quella dei masnadieri Ma non credo Che sia una statua Per un masnadiere C'è una tartaruga gigante È chiesa dei voti Ok L'hai detto Con una naturalezza Cosa Ma è un papa Il paparuga Chiesa dei voti Ma voti per chi Per questo essere È vestito come un papa No Gigante tartaruga papale No Non lo so Ah certo I dei voti Ah quindi un tempo Facevate comunella All the fuck up Radagon Da i capelli rossi Ma Marika Ha i capelli rossi Beh Marika Non ha i capelli rossi In realtà Te l'ho detto In realtà è bionda Tu vedesti Il quadro E allora quello era Radagon Eh finalmente Esatto Quello era Radagon Bravo Esatto Una delle gaff Causate da trailer E non trailer Credimi In una blind run Sono estremamente Violente Ne ho subito tante io Una in particolare Sono sicuro che la subirai a lungo anche tu Se ti ricordo il trailer Sarà un dramma È che tu dicesti Ah ma questo è Marika In realtà Il quadro Del personaggio Dei capelli rossi Visto che Marika è bionda Era un altro personaggio Però ferma i lavori Ma tu non sapevi chi fosse Sì però fermati un secondo Sarà magari l'ora tarda Ok Radagon Dai capelli rossi Sì In realtà è allora È già un semidio È molto Molto importante Avere dubbi Sulla storia di Radagon Perché è un personaggio Estremamente misterioso Ma è dentro Ma è dentro Perdonami È dentro il cazzo Di tavola rotonda Che ci fa lì Se non fa parte Perché E ha detto anche Che è l'unione Dell'albero madre E della luna Ok Cioè è un matrimonio Di convenienza Che però in realtà Andava super bene Quanto meno a Renala Che era seriamente Innamorata di Radagon Sì Per unire Forse dopo la guerra Chi lo sa Senti Vuoi scoprire Vuoi scoprire Direttamente Perché quel quadro È nella rocca Che vuol dire Che devi ancora Parlare con Miriel Ah sì sì Per carità Allora gli parlo Prima e poi No cazzo Sta cazzo di telecamera Adesso no Non subiscaldarti Dagli freddume Devo dagli freddore Esatto Esatto Ti prego Resisti Vabbè comunque Dicevo Eccomi Capite La chat Non deve esserci Voglio un attimo Condividere con te Con voi Quello che ho pensato Ma infatti Prima di parlargli Vola Ma Ecco Hai tutto davanti a te L'albero madre Da cosa È rappresentato Se non dai figli di Marika Concordi con me L'albero madre È Completamente Legato Alla stirpe aurea Benissimo Ma allora Is Radagon Marika In cesto? Tu stai Stai martinizzando La cosa Stai martinizzando La cosa Ed è completamente Lecito farlo Il problema è Il problema è Questo Probabile In cesto Dato dal fatto Che tu abbia pensato Che se è un quadro Dentro la rocca Significa che è un semidio È Nella direzione giusta O nella direzione sbagliata E se è nella direzione sbagliata Perché lo è? Parliamo con la tartaruga Parliamo con la tartaruga Giusto? Ho schioccato le dita Va bene Guarda Qui Capite esattamente Perché Non ci deve essere la chat E perché la blind La ne è sacra Oh quanto amerete La mia ragazzi Sono sicuro che la amerete Perché io la amo Riguardo a Radagon Testa di cazzo Miriel Vai Sei pronto? Ma che cazzo? Da guerra a sexo La prima guerra Morgoth è tornato Quindi non era un figlio Era solo un generale Second husband And king consort Taking the title Of second elder lord Oh what the fuck Che è lì dentro Spada bam Boom bam Beh fra Ma come cosa? È diventato il secondo Elden lord Un mero campione Neanche Miriel sa Perché è un campione Quindi Quindi Riportandoci All'inizio live L'opzione È la numero Due Ma tu pensa Ma tu pensa Tutto questo tempo Tutto il percorso Anche di marketing Ah Godfrey The Elden lord Il primo Elden lord E l'ult No C'è il secondo Non è vero C'è il secondo Avevano detto anche Che era l'ultimo Nel CNT Mentivano Facevano il mento Esiste Il secondo Elden lord Che però Secondo me Non era manco Per il cazzo Forte come il primo Perché era un mero Campione Serviva un altro Elden lord Serviva Esatto Del piano Faceva parte Del piano Di marica Forse in larga scala Però ha detto Dopo la disegregazione Corretto Ha detto dopo E si può fare un Elden lord Dopo la disegregazione Che Elden lord è Se non ha l'Elden ring Un Elden lord così E tu ora sei Elden lord Ma non c'hai l'Elden ring E vabbè Mo Mo devi guardare sti dettagli Scherzi a parte Non è un Elden lord Realmente tale Perché l'Elden ring Non c'è più A meno che Elden lord Non vada di pari passo Cioè Non Debba Possedere L'Elden ring Ma è strano Un Elden lord È lord ancestrale È lord di tutte le cose Che sono ancestrali Quindi in teoria Anche Allora La cronologia È delicata Io non sono ancora veterano Ma Non Adesso potrei anche Riguardarmi il dialogo Non credo abbia detto Dopo la disegregazione Non ha detto Dopo la disegregazione È molto importante Che tu capisca questo La cronologia è fondamentale Ok Posso richiedere Riguardo a Radagon Mi dice la stessa cosa Temo di no Temo che Elden ring Qua faccia lo scorreggio Aspetta 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 C'ho la possibilità Di farlo Sciarro Salva gioco recente Salva breve clip 3 minuti In teoria Non penso Di aver fatto lo speculo Per 3 minuti Eh infatti Guarda Giunse in queste terre Alla testa Di una grande armata d'oro E diede battaglia Ma presto Si rammaricò Delle sue mire aggressive E prese in sposa La regina di Caria Tuttavia Quando Godfrey Fu cacciato Dall'interregno Ok ma non Dopo la disegregazione Eh no Esatto Esatto La disegregazione È dopo Molto dopo Ok quindi no Ok Allora All'elden ring Perché ancora Non è stato rotto Non può Esatto Ma allo stesso tempo Godfrey Non è allora L'elden lord Che è stato inculato Durante lo shattering Quindi in realtà Marika salva Godfrey così Aspetta 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 Non mi muovo Allora Se non è Prima dello shattering Se non è dopo Lo shattering Vuol dire che Godfrey viene cacciato Da qui Prima Della disegregazione Si Prima della rottura Dell'elden ring Si Sei d'accordo Assolutamente si Quindi Marika Potrebbe salvare Godfrey in realtà Cioè Anche Magari all'insaputa Dei senza luce Visto che però Come diceva Melina In realtà E' tutto un disegno Più grande Pro senza luce Marika potrebbe Aver detto Godfrey Tanno in culà L'elden lord Levati dal cazzo Adesso prendiamo Quel coglione Di radagon E si culano lui Capito? Però Marika Ha rimosso La grazia Al suo lord E vabbè Magari doveva Doveva farlo Per copertura Per convincere Bravissimo Esatto E' la stessa idea Che ho avuto adesso Cioè doveva farlo Praticamente Marika Ha creato Senza luce Questo lo sappiamo Sì ma li ha privati De radagon In modo terribile Abbandonata E quindi la seconda guerra E' dopo E' con Morgoth La seconda guerra Durante la disgregazione Quando ormai Non avevano più A che spartire niente Con i cariani E quindi ecco perché Ci sono minchia Tutto torna ragazzi Raga ma davvero Qualcuno ha detto Ora ripenso Alla discussione Di Che abbiamo fatto al pub Ma davvero qualcuno È convinto Che questa sia La solita storia Souls Capito Guarda Guarda Mi piace osservare Quando posso Ed è stato Bellissimo Perché Io Ero Molto coinvolto Al momento del boss finale Ho quasi pianto Per l'emozione Ma non per la commozione Era semplicemente Era emozione Di finirlo Tu non hai idea Dell'emozione Sì Cioè io mi sono commosso Anche con solo Cinder Però lì era più Una cosa di romantica Qui invece è proprio Il fomento Ho lacrimato Per il fomento Perché io Ho unito dei puntini E ho visto delle cose E poi vedi questi Che fanno Au Cool Che cazzo è Perché non lo sanno Esatto Ma sì Non c'è niente di male Però Giustamente È totalmente altrove L'interesse Lo ammiro Adoro l'artcore gaming Però cazzo È troppo divertente E La cosa però Si interfaccia anche col Cazzo qui Tu sei arrivato Alla seconda area di gioco Alla seconda E hai questo E si sta intrigando tutto Ma in una maniera ordinata Esatto Alla fine Secondo me La cazzata che hanno fatto È roba tipo La benedizione Il benedetto alla grazia Ma cazzo Ma dimmi il nome No Ma che cazzo ti costa Scriverci Morgoth Cioè non deve essere per forza Un esercizio mnemonico Fino a se stesso Sono un po' stronzi E quindi Lì mi fa un po' cadere le braccia Perché mi devo ricordare Per forza memoria Quello che ha detto No no Elden Ring in questo È un figlio di puttana Ed essendo open world Con una storia così densa Guarda Il discorso high fantasy Che ti ho fatto oggi Bisognerebbe vedere però In giapponese Bisognerebbe vedere Quanta sintesi hanno fatto Però al di là di tutto Io ti dico Open world High fantasy Hai fatto due aree Tre NPC E hai già queste bombe qua Un bel log Un glossario E un bestiario Era fondamentale Però Sì cazzo dai Vabbè Elden Ring 2 Comunque Esatto Secondo te ci No vabbè non me lo dire Me lo direi poi Mi direi poi Eh se secondo te Visto il finale Ci sarà un sequel Eh non posso dirtelo Eh infatti Immaginavo E quindi Entra ufficialmente Visto che si tratta Di un gioco Miyazakico Entra ufficialmente Nel toto boss finale Radagon Vero E infatti Come eco Del vecchio Elden Lord Che tu devi Sradicare Insomma praticamente Praticamente Un nuovo Gwyn Sì Un nuovo Gwyn E per quello dico no Visto che è un gioco Di Miyazaki Tu hai raccolto Tutte le rune Ma c'è ancora Un piccolo frammento Di runa Che rimane nel Vecchio Elden Lord Che rimane nel Che lo devi tirare fuori Il nuovo compagno Di Marika A meno che Cioè noi dobbiamo Scoprire questo Qual è la storia Godfrey È stato esiliato E cacciato Ha perso la luce Ma nessuno ha mai detto Che è morto Radagon Scopriamo adesso Essere stato Il secondo Elden Lord Ma non può più Essere Elden Lord Perché la disgregazione Ha distrutto l'anello È certo E quindi che fine ha fatto È vivo È morto È ancora nell'interregno Dov'è Radagon Già cominciano A esserci delle domande Questo è l'inizio Dell'avere un disegno Anche perché nonostante Sia parlato di Shattering Non ci hanno mai raccontato Come appunto Se n'è andato a fanculo Radagon Quindi è molto interessante Nessuno ne ha mai parlato Se n'è andato a fanculo Però lo ricordano Come un dio Chiaramente Come un grande Nella 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 tavola rotonda Perché è il secondo Elden Lord Esatto Cosa facciamo? Mi sa che ci fermiamo qua Perché se leggo Tutti gli altri dialoghi Fiamo notte Già è notte Ma fammo ancora più notte Ricominciamo da questi dialoghi E poi torniamo indietro Cosa vogliamo fare? Dimmi tu Un altro Radagon? È una tua scelta Io Andrei fino in fondo Ok Allora vado con un altro Radagon Ok? Magari ci teniamo per dopo Le stregonerie No no Nulla Solo i dialoghi Solo i dialoghi Ok io parlavo di tutto Capito? No ma i dialoghi Ti ci farei andare fino in fondo Vado Vai Quindi è fisico il suo segreto Esatto Io su questo Ho Discusso È una donna? Tutto Vero Guarda in realtà È Una cosa Io ho pensato a diverse cose Ho pensato per esempio A un simbolo Un tatuaggio È una donna Una cicatrice Esatto Un segno Qualcosa Un marchio Che è definibile Scheletro nell'armadio Esatto Se però Giustamente Tu pensi in maniera martiniana Fosse una donna Magari Da una parte ci si scontra un po' Eh io sto pensando in maniera martiniana Capito? Lo so La prima cosa che ho pensato è È una donna Però il fatto è questo Il fatto è questo Io sarei stato d'accordo con te Nel pensare a una donna Se fosse stato un matrimonio con Marika E Marika magari aveva un piano E c'era una certa furberia E magari in quanto Marika è una divinità Non abbia nessun problema Ad avere procreazione Per altri semplici poteri magici Che riguardano Tutto fuorché Il sesso Però È stato marito È stato marito Di Renala Eh vabbè Che vuol dire Non mi convince questa cosa Nel senso È stato marito di Renala Ma Potrebbe essere Marito Nel senso che lei pensava fosse un uomo Poi scopre che è una donna Ma la ama Lo stesso Ho capito Potrebbe starci Dobbiamo però Cioè la prima cosa che ho pensato Ti ripeto Conoscendo Game of Thrones Avendolo visto tutto È vero È una donna Però ti metto Si sente uomo Si sente uomo Ti metto una pulce nell'orecchio Ti metto una pulce nell'orecchio Ecco Ok vai vai Ti metto una pulce nell'orecchio Che approfondiremo Perché ancora tante cose non le sai E tu devi andare fino in fondo Con le speculazioni Come ho fatto io ovviamente Da solo Però È che ho pensato anche alle statue E le statue solitamente Riportano spesso I condottieri nudi Oddio Comunque no Esatto Dove Infatti Ma infatti è ovvio Il mio pensiero era proprio Dinanzi al corpo nudo Chiaramente Non vedevo l'ora Di arrivare alla capitale Proprio per cercare quella statua Magari dorata Gigantesca E cercare un dettaglio No Non vedevo l'ora Però aspetta La domanda è La domanda è Fondamentale Da cercare Nelle descrizioni A questo punto Radagon e Renala Hanno avuto Figli Se la risposta è sì Siamo nella merda Se la risposta è sì A meno che Non ci sia un modo particolare Di procreare Tra due donne Direi di No Hai ragione Però per ora Non c'era No Non sappiamo Non sappiamo Di figli Non sappiamo Di nessuno Di loro Non abbiamo ancora Gerarchia Un'enorme Stratua Di Lord Radagon Qua in chat Per me Per me Ha una grave Menomazione Anche Però che segreto Che segreto è Oh no Ha una Ha un Cioè sembra una cosa Che veramente Cambia tutta la percezione Del personaggio Quindi o c'è Non lo so I love Renna Un tatuaggio Addosso Scherzi a parte Una roba del tipo Mi piace vivere nella morte Un simbolo del vivere nella morte Eh sì esatto 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 E allora ok Il grande segreto È che in realtà È una spia Radagon è sempre Stato pro morte Ma era un generale È venuto qui a far guerra È venuto qui a far guerra Esatto A meno che non siamo Davanti a una strana Mulan Però c'è un segreto E mi piace Che pensi In modo martiniano È vero Però Io ti dico Da questo momento in poi Non dico l'ora Di raggiungere la capitata È bravo Esatto I segreti Possono essere tanti Sempre pensando martinianamente Ma certo Quindi lord Incredibile Allora Ragazzi Martin Quando dipinge Mondi fantasy Questo è un discorso Super serio Gioca molto Sul concetto Di virilità Proiettando poi Quella che è la Mascolinità tossica Che è sopravvissuta davvero Oltre il medioevo Oltre il fantasy Anche nel mondo reale Quindi Ovviamente Magari mi sto costruendo Un castello di carta Però Fallo sempre Siamo qui apposta Capire che Attorno a questo lord C'è un culto tale Da avere Statue gigantesche È il lord ancestrale Minchia Si è sposato Rennale E poi pure Marica Che cazzo E poi non ha il pisello È passato È passato dalla Esatto Sì è passato Dalla regina Dalla regina Di caria Alla dea È una roba Che se effettivamente Dovesse essere privo Di organo sessuale Potrebbe essere Tra l'altro in un culto legato In un culto legato Ma peggio Ma peggio Cos'è Magari non puoi procreare Non puoi riprodurti Dinanzi a Marica Che è nata Ed esiste In nome della creazione Dei semi Bravo Cioè sei praticamente La cosa peggiore che esiste Magari Marica Innamorata L'ha scelto comunque Ed è successo un casino E ho Guarda che è tutto Ha senso Eh Guarda se c'è una cosa Che posso dirti già adesso Bello Non avevi bisogno Eh Bravo Non avevi bisogno Ma adesso Te lo confermo Definitivamente Elden Ring Al di là Di degli orrori Meravigliosi Nella dicotomia giusta Da dire Nei souls precedenti Nella splendida Scrittura Oscura Elden Ring È Molto Più maturo Cioè È molto più Lo avverto Eh Esatto Lo avverto Eh sì Faccio anche riguardo a Renala? Sì Madonna Trattaruga Ti amo Esatto È fin qui È infatti È una strega Immaginavo E niente Sono diventato Di nuovo buio Quando l'accademia Rebellò Contro i reali Si è Una guerra civile Esatto Accademia Di reia Lucaria Contro i reali Cariani Appunto Qualcosa di molto Interno E lei Che praticamente Rappresentava entrambi È stata rinchiusa Sì Però forse Comunque più i reali Che l'accademia Perché amava Radagon Bravissimo E Non solo Tra i due Avesse dovuto scegliere Effettivamente C'è una forte Legge d'amore qua Le si è spezzato il cuore Vai L'uovo d'ambra L'uovo d'ambra Infatti rimaneva solo un voto Ma lei l'ha infranto Sta utilizzando La tetra arte Della reincarnazione Quindi vivere nella morte 101 Proprio Cosa che invece Non si sarebbe dovuta fare Il voto forse è questo Fai quello che vuoi Ma non vivere nella morte E lei si è spezzato il cuore E lei si è spezzato il cuore E l'uovo è un uovo d'ambra Che l'è stato lasciato da Radagon L'ambra È una cosa molto importante In Elden Ring Perché l'ambra Arriva dalla resina Bravissimo E quindi è un uovo Covat Dentro l'albero madre In realtà è un uovo Molto speciale Non c'entrano nulla Forse i rapaci O i draghi Ed ecco perché Può tenerci dentro la runa Perché viene dall'albero madre Eccoci qua Come vedi è un finale Che Ragazzi Mi fa troppo ridere Elden Ring è quasi Cazzo comico Nel come ti droppa La lore Con i personaggi più improbabili Abbiamo incontrato Un semidio Abbiamo incontrato Condottieri incredibili La lore Te la dà Uno stronzo di merda Che vive Il papalor Esatto Su un cazzo Su un cazzo di Pezzo di tempio Tutto rotto Che fa Salvami E poi tra l'altro È Godric Ha fatto questo Questo E una cazzo di tartaruga In cosplay Da papà francesco Esatto Questa cosa è assurda Questa cosa è assurda Ragazzi Ma Merda Se Ha ravvivato il mio pene E tu pensa Vedi Cioè Torna il discorso Alla faccia della storia Uguale Insomma Magari lo scheletro Certo No 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 Però Per me Allora per me qui La mano di Martin Si sente tanto Mamma mia Ormai sempre in più live Ma infatti è stata La mia più grande sorpresa È stato scoprire Quanto in realtà Non fosse assolutamente Un Diciamo Palcoscenico No no Qua c'è tutto È tantissimo Ed è bellissimo Io in sempre più live Sto lasciando perdere Miazaghi E sto ragionando Eh Martinianamente E mi hai capito Infatti la prima cosa Il primo commento che hai fatto Quando ho detto È una donna Esatto Hai capito subito Che stavo pensando a quello Eh certo We'll see Allora Se vuoi un'ultima gioia Non speculativa Ma che ti farà Proprio andare a dormire Contento 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 Gli tiro un R1 No Poverino Vai Nella Pozza davanti a te Con la statua Leggi sotto Oh sì Evviva La strega Non mi odierà più Let's go Mi sto slittando Ora non più Adesso di nuovo Guarda come mi muovo Sì No Non possiedo La rugiada celestiale Nell'inventario Oh Eh vabbè Ti serve un oggetto chiave La troverò La rugiadina Va bene Perfetto Grazie mille maestro Splendida Grazie mille Stupenda Andiamo da Diego E ci sentiamo Presto Assolutamente È stato un piacere maestro Auguro a lei Alla sua community Una buonanotte Yes Grazie mille Ciao 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 Non è una veteran run Però come potete notare Adesso Adesso Le cose cominciano A muoversi In un certo modo In un certo modo Oltretutto ragazzi A volte E infatti la chat L'ho rimossa E sono stato molto attento A fare certe cose E al gestire Tutto il discorso Siete Pericolosissimi Perché vi ho sentito Discutere No? Com'è? Ma come? C'è il dialogo Di Roger Sui figli Di Radagon Non li ha sentiti Calma I know my shit Non lo sa Chi sono i figli Io li so I figli L'ho finito bene Elden Ring L'ho finito Molto bene Elden Ring Yeah Platino blind Quindi Non preoccupatevi Siete al sicuro Si fa Dici i figli Mike Runny Rijka De Radagon E Brrr Ragazzi Io posso fare Gli Animaniacs Con i nomi Di Elden Ring Mi date la mappa E vi faccio capire Chi ha concepito chi Ho la mappa Generologica in testa Sono praticamente L'albero madre Dei figli Degli ovuli E degli uteri Di questo mondo Cioè Ragazzi Mike The All Knowing Lo so io sono The All Knowing Scopro il segreto Tirata Con in blind Ragazzi Cioè L'anima della scoperta 7 È top tier Sono troppo contento Quindi No Visto che mi si è Baggata ietta Non ho utilizzato Lago di Michela Lago di Michela E altre cosine Vi dico una cosa Ve la meritate Ve la meritate Una cosa ve la dico Se riuscissi a bere prima Magari Che poi tra l'altro Sto per montare Uppare gli ultimi episodi Che saranno tutti In anteprima Le pubblicazioni Saranno super frequenti Ma in anteprima Ci sarà tutto Vorrei farvi una proposta Molto interessante Le intuizioni di Saido Molto interessante O meglio Le intuizioni no Le idee Le speculazioni Allora Una cosa importante L'ultimo episodio Dell'Anima della scoperta 7 New Game Si chiamerà Completismo E prenderemo Probabilmente Il platino in diretta Perché mi manca Soltanto il finale Della frenesia Non so ancora Ed è l'unica cosa Che non voglio googlare Come si apre La porta Delle tre dita Perché non ho fatto La quest dieta E ho fatto dei test Ho fatto dei test Ve lo dirò in quel video Ma sono falliti Però ora sono libero Davanti a internet Posso guardare tutto E fare tutto Vi faccio una proposta Vi faccio una proposta Grazie for close Perché io in realtà Ora sono free spoiler Però questa cosa Vorrei Discuterla Blind Poi se qualcuno Me la spoilerà per sbaglio Non ci rimango più male Evitate Ma perché ormai ho finito La blind era finita L'ho platinato blind Cioè fatemi Lo so che il platino È molto più semplice Rispetto a tanti altri titoli È il più semplice Dei souls Ma l'ho fatto blind Senza testi a terra E senza internet Senza amici E senza parlare con nessuno Quindi fatemi Fare Il cerchio di Radagon Con Con il mento Una cosa importante È una proposta Che vi faccio L'ultimo episodio Si chiamerà Completismo Io Carico il salvataggio finale E apro la wiki O meglio Prima recupero La quest di Yetta Con il salvataggio Del PSN Che mi hanno dato Per salvarmi Da Marenia Baggata E poi Apro il salvataggio Di Mira E apro la wiki Vorrei Che ci foste Anche voi Vorrei Che l'episodio finale Fosse fatto In live Ma come video Non potrei Ringraziare Nessuna sub Non potrei Interagire Con le donazioni Come succede In queste dirette Io mi sentirei Molto in colpa Però Interagirei Magari con voi Sareste a schermo In chat Free spoiler Sarebbe figo Secondo me Detto questo Ora che ho finito Elden Ring La piega Di questa run Migliorerà Tantissimo Ragazzi Io vi ringrazio Profondamente Dello stupendo Enorme supporto Che mi avete offerto Stanotte Ricordatevi Settimana prossima Cominciano Le maratone Di Elden Ring Nuovi personaggi E decideremo Insieme Quali E come giocarli Ma saranno run Fatte bene Signori Buonanotte E alla prossima E alla prossima